Vai, vai, non ti preoccupare. Bellino, viste? Due madonna davvero, vedi. Sì. Sì. Compagni, siamo qui stasera per parlare di come e dove e quando fare la sinistra, quindi urge partire dal bicchiere di Nutella. Io sono cresciuta in una famiglia autenticamente capitalista, quindi spiego a voi altri che avete invece avuto più fortuna qual è la tecnica del bicchiere di Nutella, che è la tecnica con la quale è stata svuotata la democrazia in questo Paese. Funziona così. Quindi, nelle case dove c'è il bicchiere di Nutella, per non far vedere che si sta svuotando il bicchiere di Nutella, si prende la Nutella al centro e si lascia la Nutella lungo i bordi, in modo che dall'esterno il bicchiere sembri ancora pieno. È quello che è stato fatto in questo Paese con la democrazia. Formalmente c'erano ancora le elezioni tra un governo tecnico e l'altro, c'era ancora il Parlamento, anche se poi fa da passacarte al governo che grazie alla decretazione d'urgenza non coinvolge più le camere nel processo legislativo. Formalmente c'è una banca centrale europea, poi in realtà però dipende dalle banche private, quindi non può in realtà prestare soldi, non ci può permettere di indebitarci e crescere. Questo è quello che era successo alla democrazia. Formalmente c'era. In realtà il bicchiere di Nutella è stato svuotato. Io questa cosa l'ho detta a un dibattito su come, dove e quando fare la sinistra, forse c'eravamo anche la metà di quelli che ci sono qui, un paio di anni fa. Le cose sono cambiate e sono cambiate in peggio, perché invece adesso non ci si preoccupa nemmeno più di salvare l'apparenza. La democrazia proprio non esiste più, né formalmente né sostanzialmente. Non esiste più la Costituzione, non esiste più il diritto al lavoro. Il diritto al lavoro è stato aggriso dalle leggi che hanno reso legale, hanno legalizzato il lavoro gratuito e lo sfruttamento in ogni sua forma. L'abbiamo visto con i voucher. Diciamo sì, è un processo che era cominciato col pacchetto 3 euro, la legge Biaggi, tutte le leggi votate anche da molti esponenti politici che si dicono, si ritengono di sinistra. E oggi siamo arrivati proprio allo sfruttamento legalizzato per una Repubblica fondata sul lavoro. Questo mi sembra il più grande dei torti. Ma pensiamo anche a quello che è successo adesso con il codice Miniti contro le ONG. Cioè un codice che è apertamente contro le ONG che hanno la colpa di salvare gli esseri umani che stanno morendo affogati in mare. Non sarebbe successo due o tre anni fa di fare una legge che fosse proprio così già nel nome, un codice che serve a punire le ONG. Ma l'abbiamo visto anche con gli sgomberi dei migranti a Roma, con gli idranti. Quindi ecco il dibattito su come, dove e quando fare la sinistra oggi è molto diverso dal dibattito secondo me che avremmo fatto due anni fa, quando ancora ci si poteva illudere forse che ci fosse un diverso margine di manovra. Adesso secondo me bisogna contarsi invece. Bisogna dire che la questione su come, dove e quando fare la sinistra ora è un po' più semplice forse di prima. Allora come? Facendola. Facendola, questo è già un buon inizio, facendola come? Facendola scendendo in piatta per battersi con chi invece la guerra l'ha fatta banalmente. battendosi per rimettere il lavoro al centro della Costituzione, per far tornare il lavoro a essere quella roba lì, un'attività che concorre allo sviluppo del singolo e della società, ma anche che vi adiritta a una retribuzione proporzionata al lavoro svolto e in ogni caso sufficiente a garantire al singolo e alla sua famiglia che si lavorasse per un compenso medio di 500 euro all'anno, perché questo è il compenso medio che è toccato a 1,4 milioni di persone che hanno lavorato con i voucher. Dove farla? Dove farla pure è più facile, dove farla fuori di qui, questo non c'è dubbio, perché siamo troppo pochi qui. Cioè perché il terreno che c'era alla sinistra del PD, ammesso che è lì, che vada fatta la sinistra, rispetto a qui, però è sempre meglio precisare, perché poi non ci sa mai, magari non vorrei dare per scontate delle cose che poi scoprono non esserlo, quindi dove farla fuori di qui, perché noi se ci contiamo, anche ammesso che si riuscisse a mettere insieme la mitica sinistra unita, tutta quella che c'è fuori dal PD, in realtà poi rappresenta quanto in termini elettorali e in termini di persone, di voti assoluti, e quindi la sinistra invece va fatta fuori con quel 40% di persone che non sono andate a votare alle elezioni amministrative, è chiaro che quel 40% chiama direttamente in causa la sinistra. Quando farla? Quando farla? Prima, no prima non c'è dubbio, bisognava farla prima perché adesso invece che discutere di alleanze, quindi di chi c'è alla sinistra del PD, questa discussione è surreale per chi come me la legge un po' dall'esterno, che vede rifondazione, attende le sinistre italiane, che attende MDP, che attende Episapia, che attende Renzi, che attende Alfano, che è alla fiera dell'Est per due soldi. Ecco, quindi invece di trovarci a quel punto lì, noi per fare la sinistra adesso dovremmo già aver discusso del fatto che stiamo desertificando il pianeta, del fatto che lavoriamo mediamente, quanto lavorava un contadino nel 1200, un minatore nel 1700, che dovremmo poter lavorare meno, lavorare tutti, noi dovremmo oggi discutere di questo e non di come ripristinare l'articolo 18, questa dovrebbe essere un'iscussione già data per scontata e alla base di quella che deve essere la sinistra. La sinistra andava fatta prima, però il mio motto è meglio troppo tardi che mai, quindi questo tempo qui ci abbiamo, facciamolo adesso. e qui ci sono alcuni dei protagonisti di quelli che dovrebbero essere il lievito per fare la sinistra qua fuori. Chiedo scusa, il lievito ormai uso queste metafore evangeliche perché avendo il Papa che ha scavalcato a sinistra un sacco di compagni, lo dico da, io sono atia come una zucchina ma ogni tanto mi trovo a usare con le stesse metafore, il lievito. La prima cosa che vorrei chiedere a voi è, noi ci siamo preoccupati a lungo di utilizzare questa parola sinistra, sembrava che non si potesse più usare e in effetti era complicato usarla perché molti partiti sedicenti di sinistra e di centrosinistra hanno fatto poi nella sostanza la destra, cioè hanno adverito il lavoro, hanno fatto la guerra e allora la strada sembrava essere quella di Podemos, di dire facciamo la sinistra senza dirlo, ci chiamiamo in un altro modo, non parliamo più di classe, parliamo di popolo. Poi però sono arrivati Corby, Sanders che invece hanno fatto la sinistra parlando addirittura di socialismo, di razionalizzare le imprese e allora forse invece si può anche recuperare quel gergo lì. La prima cosa che vorrei chiedervi è questa, perché non si può fare la sinistra in questo momento senza fare il conflitto, cioè il motivo per il quale il 40% delle persone non sono andate a votare non è perché non hanno un problema, ne hanno moltissimi problemi, hanno un problema con il lavoro, con la casa, ma hanno una tale urgenza che pensano che la politica, questa politica non possa dare una risposta a quell'urgenza e allora la sinistra deve prima di tutto incarrare quell'urgenza lì, quell'incazzatura lì, quella rabbia lì deve incarrare quel conflitto e io penso che lo si possa fare soltanto usando anche quel lessico lì, cioè il lessico della lotta e non quello della compatibilità per paura poi di perdersi per strada qualcuno che invece la lotta forse non la sa fare e non vuole farla. Cominciamo dalle donne, facciamo un giro allora. Chi ha raggiunto l'altra roba con Sipra, qui ci si era provata a fare la sinistra unita, ci si era anche riusciti insomma perché avevamo messo insieme i pezzi che c'erano e sembrava un buon inizio, tutto sommato poi si era superato la soglia di sbarramento del 4% e adesso, esatto, adesso è una cosa che ci piacerebbe riuscire a fare di nuovo. Devo dire che anche il linguaggio dell'altra roba con Sipra sarà stato un linguaggio molto conflittuale e forse questo è il motivo per cui nonostante il tentativo di oscuramento da parte dei media che è il tentativo che subiscono i partiti di sinistra vera in Italia da sempre, questa non è una novità si era riusciti a superare lo sbarramento. Sì è vero, quando abbiamo messo in piedi il progetto dell'altra Europa avevamo una cifra innovativa un linguaggio anche non il solito diciamo dei vari pezzettini della sinistra italiana sofferente e questo è stato un segnale che ha raccolto consenso, siamo riusciti appunto certo anche a avere un risultato elettorale positivo dopo una slata che poi si è anche disperso per varie ragioni ma essenzialmente sulla questione proprio di come si rappresenta il conflitto e di che tipo poi di rappresentanza appunto esso può avere. Allora io penso effettivamente che oggi si tratta di fare questo, di avere delle parole molto chiare e molto nette, di rappresentanza che non ha risposta oggi di una marea di persone che sono in grave di classi, di scetti, di gruppi e di persone singole che sono in grande sofferenza sociale, culturale anche di vita proprio e quindi questo è credo il compito che forse che vogliono e il primo punto direi è quello che accennava anche prima Francesca è che siamo in un disastro, siamo in una procalisse molto pesante proprio anche di tipo politico e culturale, pensiamo a quello che è successo quest'estate con il decreto Minniti e questa nuova invenzione del crimine umanitario, altro che guerra umanitaria del Kosovo, qui siamo ancora nel peggio se si può, cioè oggi di fatto abbiamo la guerra contro chi salva le vite e purtroppo devo dire che questa linea del governo e questo comportamento che poi è ovviamente appoggiato anche dalle leadership dell'Europa non viene osteggiato da chi sta appoggiando questo governo, questo per me è una cosa negativa, mi riferisco anche alla componente che si richiama comunque alla sinistra che non è più del PD, è MDP per essere chiari, che in questo momento purtroppo sta appoggiando una politica che è una politica profondamente di destra e estremamente pericolosa per la democrazia e per la Costituzione italiana, la stessa che abbiamo difeso e siamo riusciti a difenderla bene con il referendum del 4 dicembre. Allora io per farla breve penso che il primo compito sia quello di spingere per organizzare una grande mobilitazione e iniziativa sociale a partire anche dall'impegno che è già partito per una manifestazione a ottobre, il 7 ottobre contro appunto il dereso Minniti e contro questo picco di autoritarismo e di riflessione che poi è contro i migranti ma è anche contro tutti, contro tutti i poveri, contro tutte le persone che hanno difficoltà, pensiamo a quello che è successo a Roma sulla questione degli sfratti e quello che succede quotidianamente in molte città. Quindi credo che questo sia un punto perché non si costruisce nulla, non si riesce a fare alcuna lista a sinistra e poi eventualmente, come anche noi nell'altra Europa vogliamo, un nuovo soggetto politico della sinistra se non si mobilita la società e se non ci si apre anche a forze che questo conflitto lo vivono e lo portano avanti in prima persona. Rispondo alla stessa domanda. Provo a dire come la vediamo noi di rifondazione. Io sono d'accordo con l'ultima cosa che è stata detta da Francesca, la dovevamo fare prima una sinistra unita, però comunque meglio tardi che mai, però siamo davvero in ritardo. A nostro parere perlomeno il giorno dopo il risultato che aveva portato la sinistra a sinistra del PD al di sopra del 4% alle elezioni europee superando questo mito che se non ti ha lei con la gente con cui non ha niente da spartire, non riesce a eleggere, il giorno dopo noi dovevamo lanciare, io credo lo proponemmo, una grande campagna di massa di adesione a un soggetto unitario a cui tutte le persone di sinistra che si ritrovavano sugli stessi principi e obiettivi nella critica delle politiche e dei trattati di questa Unione europea, perché vedete è inutile che si vada in giro alla gente dicendo che si vuole difendere la sanità, che si vuole difendere la scuola pubblica, che si vuole mettere in sicurezza i centri storici, i minacciati dei terremoti, che si vuole lavorare per un piano per il lavoro se non si ha il coraggio di dire che bisogna mettere in discussione i trattati europei. Lo fa Podemos, lo fa Meleschon, lo fa Dielinche persino in Germania dove forse non ne avrebbero bisogno, lo fanno i nostri compagni di Siriza e non ce l'hanno fatta, ma la sinistra che dobbiamo costruire dovrebbe dare una mano ai compagni di Siriza e non regalargli la cravatta come ha fatto il Presidente Renzi per stringere il collo del nostro compagno Alexis. Dovrebbe essere una cosa di questo genere e vedete bene, c'è un'idea che questa sinistra non si possa fare perché saremmo minoritari. che se le tue parole, le tue azioni corrispondono, insomma se non fai il maneggione, il praticone, il politicante, quello che parla dice una cosa ma in realtà è un'altra, quello che ogni volta che dichiara una cosa ci metti più tempo a capire qual era il senso della cosa che stavi dichiarando, insomma se dici cose nette, chiare, guardate bene, non particolarmente ideologiche. Bernie Sanders ha detto che è per il socialismo, poi ha spiegato che essere per il socialismo significa che se ti viene un infarto l'ospedale ti deve curare anche se non c'hai una lira. Ricordiamocelo perché in Europa se c'è il servizio sanitario nazionale è perché ci sono stati socialisti e comunisti, se no col capo. Allora, infatti negli Stati Uniti non c'è ancora adesso, però a tutto questo devono corrispondere i comportamenti, noi ci lamentiamo che i giovani non siano tra le fine della sinistra, ma come mai un 75enne come Sanders ha entusiasmato persino i miei nipoti negli Stati Uniti che sono figli di un Marine che vota repubblicano? Ma perché vedono la foto di Sanders che a 20 anni veniva arrestato facendo una lotta insieme a Martin Luther King e a 75 ha una parabola per cui è sempre stato dallo stesso lato della barcata? La altra caratteristica che dovrebbe avere la sinistra è di essere credibile, è credibile Corbyn perché non ha votato nessuna guerra di Blair, a volte è rimasto solo dentro il Parlamento britannico e dire io non sono d'accordo e dovrebbe avere un programma da spiegare agli italiani e alle italiane e quindi deve parlare con le sue parole e guardate bene, deve parlare con le sue parole e quindi altri non possono parlare al suo posto. Quindi la sinistra, a mio parere modestissimo, non può essere la ruota di scorta del gruppo dirigente perdente del Partito Democratico che parla un'altra lingua e da tanti anni ha un'altra storia. Perché non potrebbero dire quelle parole e non le potrebbero dire con credibilità. D'altronde nessuno assumerebbe un militante come me per fare le privatizzazioni, direbbe no questo non è capace, cavolo, neanche per gestire i licenziamenti, un palazzinario non mi affiderebbe un piano regolatore, non affiderebbe a Paolo Berdini, devo dire che poi ce lo racconterà anche quelli che vorrebbero fare la rivoluzione e non si sono fidati di lui. Cioè c'è bisogno di una sinistra che metta, lo dico, le persone come Bordini a governare questo Paese, dico, per fare le cose di sinistra che da toppo tempo non si vedono. E un'ultima considerazione, le lotte. Diceva giustamente Francesca che prima di tutto bisogna farla unendo le persone per difendere l'acqua pubblica, per dire no alla guerra, le hanno fatte per difendere il territorio dalla distruzione ambientale, dalla cementificazione, l'hanno fatto come Tommaso per difendere il patrimonio storico, architettonico, le persone che le hanno fatte nei luoghi di lavoro, rischiando a volte il posto per non accettare i diktat padronali per cui oggi nelle fabbriche di questo Paese la gente si fa la pipì addosso perché non gli danno la possibilità di lasciare la catena quando un tempo ci sarebbe stata una rivolta. Tra l'altro fabbrica gestita diretta da quel grande filosofo che ha entusiasmato la sinistra a Portenomeni Marchionne. Quindi innanzitutto fare la sinistra io credo non sia inventare una nuova marca del detersivo da vendere perché già è pieno. Credo modestamente che fare la sinistra significhi innanzitutto unire quelli che lottano, quelli che con noi hanno marciato, hanno manifestato. E ovviamente è vero che c'è una poesia di Bertolt Brecht che dice il nemico marcia la tua testa, ma appunto invitava a evitare. Ora è difficile che le persone che in questi anni si sono opposte alle politiche neoliberiste, alla guerra, possano essere dirette, guidate credibilmente da quelli contro cui facevano le manifestazioni. Io la trovo molto difficile e quindi noi vorremmo mettere insieme pensiamo tutti quelli e pensiamo che siano una maggioranza che pensano che la riforma Fornero andrebbe abrogata e forse c'è bisogno magari che in prima fila ci sia chi a quella riforma sia opposto. Concludo, è minoritario tutto questo? Io credo di no. Non è minoritario in Spagna, non lo è in nessun paese europeo. Quando il compagno Melescion si presentò alle presidenziali, gli dissero che doveva ritirarsi, un po' come dicono a noi, dicono che non ci possono essere due liste a sinistra, io sento dire, perché ci sono i socialisti, spero che siano almeno socialisti, che devono fare la loro lista. A Melescion gli dicevano devi appoggiare quel tale Amon, di cui si sono scordati pure, che tra l'altro era proprio un bravo uomo rispetto ad altri che vanno circolando. Eppure Melescion, fortunatamente non ha dato retta, ha chiamato la Francia a liberarsi a determinate politiche e giorno per giorno, settimana per settimana il suo consenso è cresciuto. E perché non comprovarci in Italia, magari risvegliando qualche passione in tanti che sono rimasti a casa in questi anni perché pensavano che non ci fosse più motivo per avere speranza, io non credo che la sinistra e le idee di sinistra siano morte. E si è vista, lo dico, la campagna referendaria ed è per questo con entusiasmo accolto l'appello che hanno lanciato Tommaso Montanari e Anna Falcone a ritrovarci per provare a costruire una lista che fosse partecipata dal basso, che avesse dei contenuti diversi dalle politiche del PD che in questi anni sono state indistinguibili dalla destra. Una cosa però dico, se la dobbiamo fare, non è una cosa che si può fare il giorno prima delle elezioni, siamo già in ritardo e ora che la facciamo. Volevo chiedere una cosa a Tommaso Montanari perché due giorni fa hai scritto sul manifesto un pezzo molto bello in cui dicevi è arrivato il momento di dire basta, perché ci hanno fatto credere che ci sia questa guerra tra poveri, questa guerra di italiani contro migranti che arrivano e che ci ruberebbero il lavoro, mentre il razzismo, io ho scritto in realtà è soltanto il veleno che viene instillato nelle masse per far sì che i poveri non si accorgano che gli altri poveri sono uguali a loro. Sono in realtà moltissimi a pensare che sia il momento di dire basta, diceva Chiara faremo una manifestazione antirazzista il 7, sono moltissimi che guardano sgomenti a quello che sta succedendo, che hanno guardato sgomenti al decreto Minniti e che non sanno però dove ritrovarsi, non lo sanno perché fino a questo momento non è stata la sinistra né unita né disunita, purtroppo anche solo per il fatto che non ha la potenza mediatica, il luogo dove esercitare anche questa fiera protesta antirazzista. E non lo sanno però secondo me anche perché dobbiamo declinare un po' meglio la questione dell'antirazzismo. Io sono stata per tanti anni all'unità e purtroppo ho avuto un modo di conoscere da vicino tanti nativi democratici, penso a Debora Serracchiani, Lichetti, che in realtà dicono da sempre le cose che dicono oggi, oggi ci dicono lo fanno per convenienza elettorale, per prendere i voti è necessario dire agli italiani che gli stranieri ci rubano il lavoro, che bisogna aiutarli a casa loro, che lo stupro è orrendo, ma è ancora più orrendo se lo commette un migrante. Io non credo che lo facciano per convenienza elettorale, penso che lo facciano per convinzione e allora questa, lo dico avendo conosciuto quella convinzione quando la Lega non era ancora la minaccia che oggi Salvini, credo che questa convinzione debba corrispondere soltanto all'argomento umanitario, è chiaro che i migranti vanno accolti, che i profughi vanno accolti ce li impone la nostra Costituzione, ma corrisponde anche a quella che è l'idea di sinistra della società e allora noi forse è questo che dovremmo anche riuscire a spiegare come sinistra. Io in piazza a Roma quando c'è stato lo sgombro di via Curatone ho visto soltanto i cosiddetti migrantologi, cioè coloro i quali si occupano di migranti, della CGL, penso che dovremmo in questa fase essere tutti noi dei migrantologi, perché tutti noi dobbiamo vivere una sinistra dove si spiega che l'aggressione al diritto del lavoro, al diritto dei lavoratori, è quella che fa sì che se poi viene il migrante è certo che può essere sfruttato sul lavoro, ma perché esistono delle leggi che consentono di non pagare il lavoro? Allora credo che la sinistra debba ripartire da questo, cioè da riconnettere le povertà, deve riuscire a spiegare che non sono in competizione ma che appunto la guerra c'è ma è una guerra fatta ai poveri e non una guerra fatta tra i poveri, che si deve scendere in piazza per i migranti perché si deve scendere in piazza per gli ultimi che siamo anche noi e che rischiamo di diventare anche noi. Sì, credo che tu abbia perfettamente ragione, intanto grazie per questo invito fiorentino e nazionale, due cose che insieme fanno particolarmente piacere. Io credo che quando tu hai detto non solo perché ce lo dice la Costituzione, abbia toccato un punto cruciale, l'articolo 10 della Costituzione in questo dibattito sui migranti è stato secondo me usato poco tutto sommato e invece forse proprio lì dovremmo andare a guardare perché nel progetto dell'Italia che è la Costituzione, un progetto largamente inattuato, un progetto che ha una marca sociale fondamentale, comunista, socialista, cristiana, è stato scritto qualcosa che oggi va spiegato e cioè che i diritti che vengono riconosciuti dall'articolo 10 non sono riconosciuti solo ai cittadini italiani ma a tutti. Una Costituzione che dice chiunque nel mondo non abbia gli stessi diritti riguardo alle libertà democratiche, è un'espressione molto ampia, che abbiamo noi a diritto di venire in Italia, ad esigerli, a diritto di avere l'asilo. Si discusse molto in assemblea costituente su questo, non solo i cittadini ma tutti. C'è un'idea dell'Italia come patria dei diritti, come una patria anche di chi non è italiano. C'è un'apertura internazionale, c'è un'apertura forte che ha a che fare con un'altra cosa che si sta discutendo oggi malamente, che rischierà di finire malissimo, che è lo Ius Soli, cioè con l'idea che noi italiani, a differenza di altre nazioni europee, non siamo tali, non siamo italiani per via di sangue, ma lo siamo per via di cultura, di territorio, di appartenenza al suolo e quindi siamo una nazione aperta, come forse nessun'altra d'Europa. E qui c'è l'idea che queste persone non devono essere aiutate. Queste persone che non possono esercitare i diritti democratici della nostra Costituzione sono virtualmente italiane, dovremmo andare a prenderli noi e accompagnarli qua. Questo è il punto. L'idea che invece noi, con le nostre tasse, paghiamo i governi dei paesi che impediscono loro di esercitare le libertà democratiche perché non possano uscire dalle frontiere a venire a chiederci asilo, è una negazione fondamentale della nostra identità, non della loro identità. Sfiguriamo il progetto della Costituzione italiana in questo modo, non è che non siamo generosi o non siamo buoni, è che perdiamo l'idea e il senso di noi stessi. E per questo c'è, come dici tu, un nesso fondamentale con l'ingiustizia e la diseguaglianza interna, senza dire che è proprio questo che innesca la migrazione, dal cambiamento climatico alla distruzione di ogni parvenza di aspirazione all'eguaglianza. Io non sarei su questo palco senza la battaglia della Costituzione, ci siamo trovati in tanti cittadini, senza esperienza politica, a dire voglio in prima persona provare, uso la tua metafora un po' scherzosa, a fare in modo che il barattolo di Nutella non solo non venisse svuotato del tutto, ma non ci venisse tirato dietro, sostanzialmente, perché eravamo a quel punto. Io non oso immaginare, cosa sarebbe successo se il 4 dicembre avesse vinto la riforma costituzionale del Sì? Dove saremmo oggi? Quale sarebbe lo Stato del Paese, lo Stato democratico? Se avendo vinto il non Minniti usa la polizia come la usa, dove saremmo? In quale Stato di emergenza democratica saremmo? In quel momento qualcosa è successo e qualche mese prima non so quanti di noi ci avrebbero scommesso. Poi alla fine si capiva andando in giro per l'Italia, parlando con le persone, guardando negli occhi, si capiva che il bullo di Rignano che purtroppo abbiamo regalato all'Italia aveva fatto un capolavoro, era riuscito in due anni a fare quello Berlusconi, aveva fatto in venti, a diventare in viso a gran parte del Paese, però lo si è capito molto tardi. Però la cosa fondamentale è che si è svegliata una parte del Paese che non sarebbe mai venuta a feste come questa, non a tessera, che non votava da tanto tempo. Io insegno all'Università di Napoli, ho studenti di 25, 26, 27 anni che non avevano mai votato, mai, a nessun grado, e che per il referendum non solo hanno votato ma hanno fatto campagna. Lì è successo qualcosa e abbiamo vinto. E non so quante battaglie le abbiamo vinte, io non so quanti di voi possano dire quante battaglie vinte possiamo enumerare nella nostra vita politica. Allora io credo che oggi, se vogliamo dare una risposta alla situazione in cui siamo, dobbiamo ripartire di lì. E sono molto felice che Maurizio e Nicola siano stati sul palco del Brancaccio, un palco fondamentale della storia d'Italia, si ricordano discorsi di Togliatti, di Lusso, di De Gasperi, su quello stesso palco del Teatro Brancaccio. Senza paragonarci a loro, quel giorno a giugno abbiamo provato a dire insieme una cosa. Mettiamo insieme le forze di chi vuole continuare la battaglia del 4 dicembre, di chi vuole costruire qualcosa a cui dire di sì con lo stesso entusiasmo e possibilmente con lo stesso successo, con cui il 4 dicembre abbiamo detto di no. È un attuare la Costituzione, esattamente. L'abbiamo detto fortemente, attuare la Costituzione, se prendiamo i 12 principi fondamentali, l'abbiamo fatto quel giorno a teatro, al Brancaccio, facciamo l'elenco dello smontaggio dello Stato negli ultimi 30 anni. Allora, il punto qual è? Fare il processo di cui tutti avremmo voglia a chi, e sapremmo fare nomi e cognomi, ha smontato lo Stato negli ultimi 30 anni o provare invece a concentrarsi sul futuro? Invertire la rotta radicalmente. Quel giorno, in prima fila il Brancaccio, c'era anche Massimo D'Alema, insieme a tanti compagni di MDP. Abbiamo quel giorno parlato di tutto quello che è stato fatto contro il progetto della Costituzione, ci abbiamo messo anche la guerra del Kosovo, senza sconti. L'abbiamo dette tutte, però abbiamo anche provato a dire una cosa. Facciamo come il 4 dicembre, siamo in un momento grave, di emergenza. Costruiamo una sinistra che abbia chiara la direzione del futuro. Non preoccupiamoci di regolare i conti fra di noi, perché la soddisfazione che prendiamo nel regolare i conti oggi è assai poca rispetto a quella che, per esempio, abbiamo preso il 4 dicembre sconfiggendo quel disegno. È possibile trovarsi su una direzione forte? Noi l'abbiamo detto prendendoci molte critiche. Questa direzione deve essere chiara. Mai un'alleanza col Partito Democratico, perché il Partito Democratico oggi è parte di una destra. A me, diciamo, non interessa, mi sono trovato sul palco della festa del fatto che Pierluigi Bersani ci hanno messo a discutere. Io dicevo che il PD è un partito di destra, Bersani diceva che è un partito portato a destra. Va bene, sono sfumature assai poco interessanti. Nessuno però, neanche Bersani, può metterli in discussione, non l'ha fatto quel giorno, il fatto che la politica che oggi fa il PD è una politica di destra. Io vorrei però recuperare i voti di quel partito, una parte di quel partito, vorrei contenderglieli, perché così abbiamo fatto il 4 dicembre. Allora, io credo che il punto sia provare a costruire un'alleanza, che all'inizio non potrà che essere elettorale, ma io spero che poi abbia una sua storia, che si presenti con un volto solo e radicale e che dica chiaramente le cose che vuole fare senza sconti e che il discrimine non sia che cosa hai fatto prima, ma cosa vorrai fare dopo? In maniera molto forte e molto chiara, perché se noi ci impantaniamo nel passato e ti dico, sono il primo che avrei voglia di strangolare quelli che hanno votato in Parlamento del formato costituzionale fino all'ultimo momento e si sono convertiti sulla via di Damasco l'ultimo giorno, se però cediamo a questo istinto che è forte, non facciamo un servizio a questo Paese. Io vorrei imparare dalla lezione del 4 dicembre e non importa quello che dici, importa quello che fai, vorrei essere chiaro, a me non importa che Enrico Rossi scriva un libro sul socialismo, mi importa se ferma l'inceneritore dell'aeroporto, finché è Presidente della Regione Toscana, sono i fatti che contano e sui fatti in queste settimane dovremo discutere e dovremo capire. Però io credo che abbiamo tutti un grande bisogno di futuro e credo che la cosa che dobbiamo ai nostri figli, che dobbiamo al futuro sia la capacità oggi di essere radicali, di dire che non bisogna correggere, il tempo del riformismo è finito, il tempo del centro-sinistra è finito, ci vuole un radicalismo vero in Europa e in tanti altri campi, però non concepiamolo come una resa di conti tra le persone, concepiamolo come un progetto di paese, dopodiché chi non vorrà non ci sta. Io l'ho detto, come dire, prendendovi molte critiche, il Brancaccio l'abbiamo fatto perché con Anna Falcone e molti altri, quando abbiamo visto che il progetto che veniva venduto dai grandi giornali era quello di Pisapia, ci siamo detti, noi per un progetto così non andiamo a votare, non è che votiamo come Paolo, non andiamo a votare, qualcuno di noi in una certa fase ha pensato con la voglia di rovesciare il tavolo, votiamo 5 stelle, Paolo, è un po' difficile, mi pare, questo è stato evidente, allora che cosa possiamo fare davvero di radicale? È possibile che ci rassegniamo al fatto che non ci sia una sinistra degna di questo nome in questo paese, una sinistra radicale che però sia capace di attrarre consenso, quei voti di sinistra, dei più giovani soprattutto, che il 4 dicembre sono apparsi, li vogliamo ricacciare in fondo al mare prendendoci nelle nostre beghe o gli vogliamo dare una motivazione guardando avanti, vogliamo parlare ai ragazzi di 18 anni di quello che è successo 20 anni fa o gli vogliamo parlare di quello che succederà fra 20 anni in questo paese? Io credo che abbiamo un debito verso il futuro, non verso il passato e che ora dobbiamo lavorare a questo, con la massima coerenza e il massimo radicalismo, chi non ci sta al programma che dobbiamo costruire insieme se ne va a chiunque sia, però chi ci sta, ci sta e si lavora insieme, io francamente la notte del 4 dicembre a mezzanotte stavo in piazza della signoria, non so se c'era qualcuno di voi, c'è stato anche qualche fuoco d'artificio, io ci vorrei tornare in piazza della signoria, magari anche per le comunali di Firenze, cercherò di fare la mia parte, però vorrei andarci anche per le politiche. Nicola Fardogliani, Sinistra Italiana è proprio al centro di questo processo, sta tentando di incollare questi pezzi della sinistra che sta qua dentro per parlare a quella che sta fuori, però io voglio farti una provocazione, non c'è il rischio che i voti invece che sommarsi si elidano, cioè non c'è il rischio che ci hanno insegnato, perché erano radicali le loro biografie, quindi erano credibili, ci hanno insegnato che i voti non è che si sommano, si conquistano, prima non ci sono e poi invece arrivano perché si è credibili. Ecco, dall'esterno la sensazione che si è è che ora tutto lo sforzo sia invece quello di incollare i pezzi che ci sono già, anche quando questi pezzi non sono in grado di esprimere quella radicalità e non è che non sono in grado per le guerre che hanno fatto dieci anni fa, anche per chi se le ricorda, ma ponendo di voler parlare a uno che ha vent'anni oggi si ricorda però il pareggio di bilancio in Costituzione, vede Pierluigi Persani in televisione che dice no vabbè non dico rifacciamo l'articolo 18 ma almeno il 17 e mezzo e temo non sia questa la radicalità della quale c'è bisogno per conquistare i voti invece che sommare quei pochi che possiamo esprimere qui. Ma intanto anch'io voglio ringraziare Maurizio, naturalmente i compagni e le compagnie di rifondazione per questo invito e questa occasione. Potrei per la verità cavarmela dicendo che sono d'accordo con Tommaso Montanari e non a caso pochi minuti dopo l'uscita del suo appello, allora con Pippo Scivati uscimmo dicendo saremo lì, ci saremo e potrei chiudere già qui e passare a Paolo che appunto come è già stato annunciato può non solo esprimersi sul tema della serata ma anche raccontarci esperienze che credo che tutti possano in qualche modo interessare. Però invece qualcosa la voglio dire il più rapidamente possibile. Primo, noi non abbiamo Corbyn, non abbiamo Melanchon, non abbiamo Pablo Iglesias, non ce li abbiamo, non ci sono. Dobbiamo intanto provare a misurarci, è un po' come la discussione che una parte della sinistra, più sinistra, meno sinistra, ognuno la chiami come vuole, fa sul tema delle leadership. Io dico sempre, badate, le leadership ci sono solo per definirle, o una leadership c'è perché quando parla, per il modo in cui parla, per le cose che fa, tutti e tutte la riconoscono come una leadership e dunque quella leadership si impone, oppure la leadership si costruisce, si costruisce, si costruisce con la democrazia e dunque in un processo vero, anche di battaglia politica, in un processo dinamico, perché la politica è così, la politica quando è buona è dinamica, produce conflitto, conflitto di idee, di punti di vista, si misura con i corpi sociali organizzati o meno, prova ad uscire dai confini nei quali si ritrova qualunque essi siano, quelli che stanno qui, quelli che stanno alle feste di sinistra italiana, quelli che stanno nelle tante, tantissime forme con cui la sinistra, a cui penso io, continua ad organizzarsi e a resistere, che sono quelle dei partiti, ma sono anche quelle dei tanti comitati, delle esperienze di movimento, di chi si organizza in un quartiere, in un territorio, di chi reinventa la politica nelle nuove forme di civismo, come è accaduto alle ultime elezioni a Padova, come a Catanzaro, in mondi diversissimi, ma nei quali dentro le città la politica prova a reinventarsi, la sinistra che domani a Bologna scende in piazza in modo largo e plurale per riconquistare e difendere un'idea come quella di Labà, un grande spazio vitale in quella città sgombrato all'inizio dell'estate che domani qualcuno proverà a riconquistare innanzitutto sul terreno politico, culturale, con quale dobbiamo fare i conti, altrimenti rischiamo di non dirci la verità e la verità è una cosa che di per sé non basta risolvere problemi, ma che è utile per cominciare a cercare la strada con cui risolvere quei problemi. Dunque è possibile che le facciamo per bene, però è impossibile che insieme possano costruire una dinamica capace di conquistare un nuovo spazio politico in questo Paese. Allora io dico così, Tommaso ha ragione, io lo penso come lui, o noi siamo in grado di presentare a questo Paese, a cominciare dalle prossime settimane, dai prossimi mesi, il prima possibile e siamo già in ritardo. Maurizio dice dopo il 4 dicembre qualcun altro può dire 16 anni fa, dopo Genova, qualcun altro lo può dire in un altro momento, ognuno ha la sua storia, evitiamo di andare a scavare su questo che la facciamo troppo lunga, ma noi siamo capaci rapidamente di concentrare la nostra attenzione, la nostra energia collettiva, diversa, plurale, articolata, che è fatta di lingue diverse, di culture e di storie diverse, attorno a una proposta che dica che idea ce l'abbiamo per questo Paese da qui ai prossimi anni e che provi a dire che cosa facciamo per esempio in un Paese come il nostro, nel quale è questione su cui io insisto molto, perché la considero una questione cruciale e non solo da qui a domani per le prossime elezioni, ma da qui ai prossimi decenni, in un Paese nel quale la fascia del lavoro attivo, cioè di chi lavora, si restringe sempre più, e chi lavora, lavora sempre di più, sempre di più, sempre di più, con salari più bassi, con meno diritti, e chi non lavora è sempre di più, quella fascia invece si allarga, in una realtà come la nostra nella quale i processi di innovazione tecnologica, l'automazione, ce lo dicono gli studi, non sinistra italiana, ce lo dicono le grandi università del mondo, propone per i prossimi anni un modello nel quale questa dinamica tende ad accentuarsi, perché il lavoro che l'innovazione sostituisce non viene rimpiazzato dagli umani, e quel valore però che l'innovazione, l'automazione produce non viene ridistribuito. Allora per esempio posso dire che una sinistra degna di questo nome oggi in questo paese mette dentro il suo programma elettorale il tema della riduzione del tempo di lavoro nell'arco della vita, visto che in Italia lavoriamo più ore che in tutta Europa, andiamo in pensione più tardi che in tutta Europa, e dunque lavoriamo di più che in tutta Europa, solo che a lavorare sono sempre meno persone. Posso dire che questo è un punto su cui io voglio misurarmi con tutti gli interlocutori disponibili, tutti, dal primo all'ultimo, MDP, tutti, tutti quelli che non sono qua stasera e naturalmente tutti quelli che qui ci sono, va bene? Con tutti voglio discutere. Io penso che c'è bisogno di mettere mano a una proposta che faccia della lotta alla diseguaglianza, per esempio sul terreno della distribuzione della ricchezza e del reddito, un punto cruciale della propria iniziativa, che è dunque il tema di misure universali di sostegno al reddito, che non siano i rei del governo con quei quattro spiccioli che coprono una quota infinitesimale della povertà che cresce, sia un altro pezzo su cui oggi si ricostruisce una sinistra che pone il problema della lotta alla povertà, ma anche della lotta alla precarietà. Io penso che un discorso che dica, ma scusate, i nostri figli, mio figlio fa la materna a scuola infatti, vanno in scuola, in classi che hanno 30, 32, 33 alunni, quando andavo a scuola io ce ne erano 22, 24. Perché è così? Perché succede questo? Per un cattivo segno del destino o perché si è smesso di investire nella scuola pubblica, di assumere insegnanti, perché c'è un problema che riguarda le politiche? Possiamo dire che questo è un altro pezzo del programma su cui una sinistra si costruisce e su cui anche costruiamo o meno la possibilità di un'aggregazione. E potrei continuare, ma mi fermo. Io dico dunque, lavoriamo su una proposta essere una piattaforma programmatica, semplice e chiara, che indichi 4-5 questioni che fanno della cultura, della formazione, della ricerca, che fanno del lavoro e del reddito, che fanno della lotta per la tutela dei beni comuni, dell'ambiente e del territorio. Questioni cruciali che intervengono su un grande tema come quello dell'immigrazione. Questo è stato citato, badate, sarà quella la campagna elettorale? La faremo su quello. E noi dobbiamo avere la forza di provare a organizzare su questo terreno non solo la necessaria resistenza, la necessaria controoffensiva, ma anche riorganizzare una proposta, una proposta di governo. Possiamo dire intanto che è un po' incredibile che in Italia si parla di tutto e nessuno dice che in questo Paese la normativa sull'immigrazione c'ha ancora lo stesso nome di vent'anni fa, bossi fini e che con quella legge è impossibile arrivare in questo Paese in modo regolare e che tu sei consegnato alle irregolarità inevitabilmente e che quella condizione impone e sostanzialmente spesso non consenta alle istituzioni di governare quel fenomeno in altro modo, che quella dimensione spesso produce nelle comunità territoriali condizioni che aprono contraddizioni vere, perché ci sono, non è che nelle periferie di Roma non ci sono le contraddizioni e non è che noi possiamo far finta di non vederle, altrimenti ci va solo forza nuova e lo fa con quell'impianto regressivo e fascista che diventa un pericolo per tutti, ma è un problema anche della sinistra. Quella egemonia lì è un problema anche nostro, non è mica solo un problema di Minniti, è un problema pure nostro, che abbiamo smesso di praticarli quei territori e quella battaglia politica. Allora io dico un po' di questioni, mettiamole in fila, organizziamo una piattaforma, definiamo uno spazio pubblico, definiamole insieme, definiamo un meccanismo democratico che ci consenta di operare le scelte necessarie, le priorità politiche, il modo in cui si selezionano gli elementi di direzione politica di quel percorso, non la leadership, il capo, ma con cui si definisce il modo con cui si costruisce questo processo e partiamo. E facciamola su questo, su questo elemento, la valutazione, non su elementi preventivi, perché se cominciamo ciascuno di noi a dire, sai che c'è io, Maurizio non lo voglio perché è un po' troppo estremista, e lui dice ma quello non lo voglio perché è un po' troppo moderato, e noi non andiamo da nessuna parte, perché io non so voi, ma io giro l'Italia come una trottola, ininterrottamente, ogni giorno sto in un posto diverso e ovunque vado, con qualunque mezzo di trasporto mi muovo, incontro persone che ogni volta che mi vedono mi fanno sempre tutte la stessa domanda, mi dicono per favore questa volta mettetevi tutti insieme, per favore non vi dividete un'altra volta, per favore dateci una cosa da votare che ci dia il senso che possiamo cambiare le cose in questo paese, non pensate di dircelo e poi allearvi il giorno dopo col PD, perché questo non può essere in discussione, io penso che col PD che fa le politiche che fa, oggi non ci sia nessuno spazio per immaginare un'alleanza, oggi e dopo lo dico chiaro, io lo dico chiaro, ma nello stesso tempo dico, noi dobbiamo guardare al terreno della proposta politica, perché è solo lì che siamo in grado di ricostruire unità, credibilità, e anche soltanto a noi e questo non è molto utile. La difficoltà sarà nel trovare un linguaggio convincente per dire che lavorare meno, lavorare tutti lo vogliamo fare con chi ha votato l'aumento dell'età pensionabile e quindi ci ha portato a lavorare di più di tutti gli altri in Italia, con chi anche dà ancora la fiducia a un governo che è quello che ha permesso poi ai migranti che arrivano con molti soldi di venire con uno scudo fiscale che gli consente di stabilire la residenza in Italia con uno sconto sulle tasse e invece ai migranti con pochi soldi di morire affogati in mare o nelle carceri libiche, no, perché poi il potere non è razzista però è classista. E purtroppo questa confusione che c'è alla base, da un lato dalla volontà di fare la sinistra e dall'altro dalle pratiche che ci sono state, è anche quello che ha portato una persona con la biografia di Paolo Berdini a finire in una giunta 5 stelle. È uno dei sintomi della sconfitta della sinistra radicale, perché penso che una persona con la biografia di Berdini, che tutti voi avrete sempre letto sul manifesto, anche voi che non siete romani, con maggiore attenzione nei romani, è stato cooptato proprio dai 5 stelle e lui ha accettato questa sfida, ben sapendo l'amiquità che c'era, penso all'interno, ora ce lo racconterà. Però prima ancora ti dici quell'esperienza, ecco, mi chiedo, e come mai però non l'hai tentata invece con il centro-sinistra, con l'esperienza lì? Non te l'hanno chiesto? Cosa è successo? Perché allora questo è il sintomo che, ecco, forse le persone che hanno una biografia più radicale, poi quando è il momento, quando si fa la sinistra unità, vengono messe da parte? Vengo alla domanda che facevano a Nicola, dice, ma quando fate la sinistra unità? Io dovunque vado, qualsiasi cosa di cui parlano, parla del cambiamento climatico, è però della raggio finisce, devi dire qualche cosa, finisce sempre lì. Allora, intanto dico un piccolo passaggio, così leviamo il fantasma, perché poi questi verranno cotti nel loro brodo. Guardate, chi dice la cosa che ha detto il Vice Presidente della Camera? Io sono sempre stato nella vita molto attento alle istituzioni, perché sono il cuore del sistema costituzionale. allora, il Vice Presidente della Camera, dopo lo sgombero di, guardate, a Piazza Indipendenza hanno sgomberato 800 persone rifugiate, non 800 occupanti che fanno commercio di case, come hanno detto alcuni giornaloni, sono 800 rifugiati, cioè gente che scappa dalla guerra. Il Vice Presidente della Camera, Grillino, ha detto che il Sindaco si deve occupare prima dei Romani e dopo, semmai, le città sono di tutti, è quello che diceva Tommaso un attimo fa, cioè i diritti sono di tutti, non è che c'è chi è bianco e chi è invece immigrato. Questa è la loro cultura. però, un pezzetto lo dico, in onore davvero del mio caro amico. Allora, Maurizio Cerco ha scritto, diceva, se c'è Paolo, insomma, si può anche appoggiare. Allora vi racconto questo passaggio che secondo me dice tutto di questa gente. A dicembre chiedono un consulto in giunta, diceva, vabbè, dobbiamo prendere un'altra persona in, come ha detto a stampa, questa qui veniva da dieci anni di rapporto con Cota, che insomma, già questo mette un po' il mal di pancia a una persona come me. Allora gli dico, non c'è di meglio nel giro del... è una implicata nello scandalo delle mutande verdi, no? Mi compro le mutande verdi con i soldi di tutti noi, assolti tutti, eh? Non c'è problema. Però, però, insomma, l'etica pubblica non permette queste cose. La risposta raggelante del sindaco di Roma fu, dice, beh, che problema c'è se chiamo una leghista? C'è un comunista in giunta, uno c'è che... allora a quel punto uno... ma reddo, basta, non ce la faccio più. Però veniamo al discorso serio. Nelle periferie romane, negli ultimi tre anni, prima dell'elezione dell'anno scorso, il vento grillino ha montato e come? Se la parte che ho rappresentato nella vita, che amo e che mi permette ancora di continuare, declinava, nel senso che non c'aveva più nulla da dire sulle periferie romane devastate, eh? Da vent'anni ci arrivo perché questo, secondo me, è la chiave di volta della sinistra, e beh, loro invece lavoravano alla lunga, dicevano che basta col cemento, basta con la distruzione del territorio, la città è un bene comune. Su questo hanno vinto i ragazzi, e attenzione, eh? Perché se no non capiremmo quello... hanno vinto in periferie che vedevano la sinistra guadagnare il 60-65%, vi parlo i torbellamonaca, allora hanno preso il 75%, eh? Sulla base, la città è bene comune, punto e poi hanno fatto tutto il contrario, allora uno sbatte la porta, ma questo è un altro discorso, cioè il problema è come mai la sinistra non ha più declinato i problemi della città, è questo secondo me il tarlo. Allora qui la faccio breve perché vi lancio un pezzo del ragionamento che va fatto, quando c'è stata la sinistra importante in questo paese, quando il PC chiama personaggi assolutamente indipendenti dal punto di vista della loro appartenenza culturale, chiamo Anderlini, chiamo Basaglia che non diventa deputato ma ma che comunque dà la linfa alla legge più straordinaria che è stata fatta in quegli anni, col PC all'opposizione, mica al governo, chiamo Gozzini che fa la legge, che riforma, cioè veramente l'Italia è cambiata, è cambiata per quella gente che aveva insomma una cognizione della, appunto quello che diceva Tommaso, che avete detto tutti, cioè che hanno un'idea del futuro straordinaria e la incarnano attraverso la sinistra indipendente, chiamano Antonio Cederna e qua viene il punto che vi pongo, noi strappiamo, noi, chi ci ha preceduto Giuseppe Chiarante, cioè gente strepitosa, strappano una serie di riforme fondamentali in questo paese, quelle che ho citato, la riforma pure sanitaria, la riforma della scuola unificata, eccetera, eccetera, dove si ferma questo meccanismo della riforma? Si ferma sulla città, guardate lì non la vince nessuno, 1969 c'è uno sciopero unitario CGL Cisle Will per la casa in Italia, lo stesso anno comincia una serie infernali di stragi in questo paese, sarà un caso? Non lo so, faccio un salto di 30 anni, quando la regione Lazio con una figura normale come Piero Badaloni, una persona bravissima, onestissima, pone la questione del libretto del fabbricato, insomma no ci sono dei crolli a Roma, sapete, non è crollato un palazzo, 35 persone che se ne vanno perché sotto hanno sfondato un pilastro per metterci una tipografia, eccetera, eccetera, allora facciamo un'operazione, la proprietà edilizia, quindi chi ha il potere in questo paese, nascosto, tranquillo, però ha il potere, guardate che loro hanno strappato una cosa di cui non si parla mai, l'IMU che noi paghiamo tutti senza nessuna remissione, chi costruisce un quartiere nuovo in qualsiasi parte d'Italia non paga l'IMU perché viene abbonata, nel senso che quello è un investimento, ma come un investimento, scusatemi, ma se io costruisco macchine, nel parco macchine non vendo quelle macchine, ma che non pago le tasse, non ho pagato la produzione? Per l'edilizia è stato fatto questo provvedimento nel silenzio complessivo, noi non c'eravamo in Parlamento quindi non siamo assolutamente responsabili, però questo è il potere della proprietà edilizia in Italia. Nel 1969, 30 anni dopo quando loro impugnano il libretto del fabbricato che crolla, dopodiché continuiamo a prangere i morti ogni volta che la terra di questo paese recente si scuote e crollano le case e non si può fare il libretto del fabbricato perché la proprietà edilizia si mette contro e allora è questo il ragionamento, cioè loro, io dico loro nel senso ampio, cioè chi detiene il potere economico, chi detiene il potere dell'informazione, chi ha in mano le chiavi del governo di un paese complesso e importante come l'Italia ha capito che sulla città ci si guadagna un fiume di soldi e questo l'hanno fatto, guardate un esempio banale, quando facciamo l'Expo a Milano, e guarda caso non lo dico per polemica perché non si fa mai polemica, qua c'ha ragione Nicola, ma insomma il Pisapia accetta supinamente tutto il teatrino che c'è dietro l'Expo, non ha detto una parola. Allora Expo ha significato qualche cosa come 3 miliardi di euro che la collettività ha pagato per una cosa assolutamente effimera e a giudizio di molti di noi assolutamente inutile. Dopodiché ci sono decine di migliaia di milanesi che hanno fatto baracche e burattini e sono andate ad abitare a 20, 30, 40, 60 chilometri da Milano perché non ce la facevano più con l'aumento infernale dei prezzi che ci sono state pure inizia di Milano. E' questo il ragionamento che dobbiamo cogliere, cioè loro hanno fatto delle città l'elemento di arricchimento più incredibile che si è mai avuto. Cioè loro guadagnano sulla plusvalenza immobiliare nelle nostre città e noi siamo stati fermi su questo. Ogni volta che loro hanno posto la questione della vendita degli immobili pubblici noi abbiamo fatto anche resistenza, ma non fino a cogliere veramente la devastante. Cioè Firenze è l'esempio preclaro di come si sta svendendo il bene comune in Italia e noi non ci facciamo una battaglia culturale su questo. Noi dico come grande sinistra, cioè noi dobbiamo dire che le città non si vendono, si vendessero le loro di case, ma non vendono la casa di tutti, perché loro pezzo per pezzo stanno privatizzando le città. Allora, e qua veramente la finisco, quel 40%, quel 50% di persone che non votano più. Non è che non votano, è la domanda retorica che vi faccio, io lo so che non votano per questo. Non è che non votano perché vedono scomparire e spegnersi il welfare urbano. Non è che non votano perché in periferia non c'è più un servizio urbano degno di questo nome. Non è che non votano perché la sanità pubblica ormai è scomparsa in questo paese, non se ne parla come se ne dovrebbe parlare. Cioè loro da una parte hanno imposto l'arricchimento proprio attraverso la valorizzazione immobiliare, dall'altra parte hanno smontato pezzo per pezzo quello che teneva in piedi una società disuguale, perché il welfare serve a quello, insomma c'è un minimo di paracadute per le famiglie meno abbienti. Loro l'hanno smontato pezzo per pezzo. Allora se provassimo insieme al ragionamento che sta sopra, ovviamente io non dimentico l'opera meritoria fatta da Tommaso e dalla Falcone, cioè il problema dell'Italia è l'attuazione finalmente dopo tanti anni, dopo tanti decenni della Costituzione. Dopodiché però la sinistra secondo me deve prendere in mano il problema della città, cioè perché o noi ritroviamo che la città è un bene comune e che dunque redistribuisce ricchezza per tutti. Oppure noi stiamo condannando tutte le periferie delle nostre città o comunque tutte le famiglie periferiche dentro la città che fanno le valigie come a Milano, le fanno a Firenze, le fanno a Roma. A Roma si abita a 70 chilometri dalla città, si fa pendolarismo con 70 chilometri, con i servizi pubblici, i trasporto pubblico sono inesistenti come sapete. Allora è questa l'Italia che ci chiede un intervento, è questa l'Italia che non sente più la voce della sinistra. Se noi solo ponessimo il problema dell'uguaglianza non solo dal punto di vista del reddituale, dal punto di vista del diritto del lavoro, ma dal punto di vista dell'esigenza di soddisfare i nostri bisogni di welfare urbano, noi troveremmo un campo infinito perché non lo fa nessuno. Loro si sono privatizzati la città, noi in questi anni dobbiamo ripubblicizzare la città. Scusate, lo dico perché questa è roba nostra, è roba del sacchetto nostro. Sapete adesso che si sta discutendo questa follia, ultima follia dell'amministrazione Raggi, del concordato preventivo? Nell'Atac ci lavorano 10.000 persone e tu vai a fare un concordato preventivo, significa che 4-5.000 persone se ne vanno a casa, persone che stanno nel pieno della loro forza lavoro. Sapete che cosa è venuto fuori lavorando all'interno della sinistra? Che dentro Atac nel periodo del governo del centro-sinistra erano state create 15 società di scopo che facevano, io faccio la pulizia del depuratore, tu fai la pulizia degli autobus, quell'altro fa la pulizia, quell'altro recupera gli altri autobus, c'è 15 società che hanno 15 presidenti, che hanno 15 contorni di persone che poi portano i voti a qualcuno che su queste cose ci sono. Allora la ripubblicizzazione della città va insieme alla ripubblicizzazione delle aziende pubbliche. Sono pubbliche e devono tornare in capo al pubblico. È su questo che noi costruiamo il futuro della nuova sinistra. Grazie. Il terreno dove si sta esercitando questa divaricazione della forbice tra i più ricchi e i più poveri. Addirittura abbiamo visto che nelle periferie si muore prima, l'età della vita si accorcia e non a caso la sinistra tiene anche ancora nel centro delle grandi città a livello elettorale e perde nelle periferie, proprio perché lì è più forte la disuguaglianza. Però il tema dei beni comuni, quindi della città come bene comune, che è tale soltanto se tu puoi godere anche il cena, dove la periferia ha 30 km senza mezzi di collegamento, tu non vivi più quella città. Il tema dei beni comuni, che era stato al centro del discorso della sinistra e che penso dovrebbero essere uno dei discorsi fondativi della sinistra unita, sia un po' smarrito. Ne abbiamo parlato molto nella stagione dei referendum sull'acqua e poi che fine hanno fatto questi beni comuni? Non sarà il caso di ripartire invece da lì? Forse mi sembra che il tema del bene comune sia il tema fondamentale per la distribuzione della ricchezza. Certamente sì, il bene comune è una ricostruzione anche del pubblico. Io lo so, vivo il mio lavoro nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, la biblioteca statale più importante d'Italia e vedo tutti i giorni la dismissione dello Stato e del pubblico e di un bene comune qual è la cultura. Questo per puntualizzare questa questione centrale. Direi anche una cosa però, che per portare avanti, come bisogna portare avanti una iniziativa forte sulla programmatica, sulla questione dei beni comuni, che è fondante, bisogna anche cercare di costruire un modo, una modalità, una forma della politica e dell'azione che sia a sua volta comune. I beni comuni non sono solo degli oggetti, ma sono fatti di partecipazione. Cioè la questione della democrazia è intimamente connessa con il senso della comunanza, diciamo così. E quindi io penso che in questo lavoro, che a parole, e qui spero anche non solo a parole, siamo tutti d'accordo a portare avanti, cioè quello della costruzione in Italia della sinistra che passa attraverso un processo democratico e reale e che punti appunto alla democrazia e all'uguaglianza. Quindi attivando in modo diffuso l'appello di Falcone Montanari che è partito appunto dal Brancaccio e che poi durante quest'estate ha continuato a lavorare, però è chiaro in modo più lento, visto anche il periodo ovviamente estivo, dobbiamo riprendere con forza questo percorso in modo partecipativo. Io penso che dobbiamo concretamente costruire momenti più possibile partecipati, in cui le persone possano tra di loro parlare, costruire proposta e mobilizzazione in concreto, scegliendo e anche selezionando una serie di punti, non mille, giustamente qui si dice alcune questioni di fondo su cui poi impostare un lavoro che ovviamente adesso sarà poi di campagna elettorale e poi in prospettiva anche qualcosa di più, quello della costruzione appunto di un soggetto. E allora su questo bisogna mettersi in moto subito, fare, non aspettare, siamo effettivamente già ampiamente in ritardo, però abbiamo ancora del tempo, non sprechiamolo. Quindi per esempio adesso a Firenze, faccio l'esempio, siamo qua, abbiamo fatto la scena l'altra sera con Tommaso per rilanciare proprio la partecipazione, eravamo 300 persone, mica poche, e queste 300 persone potrebbero moltiplicarsi e lavorare per costruire poi a Firenze come nelle altre città d'Italia, momenti partecipati di assemblea, non solo come stasera, ma proprio a tavoli, in modo che ognuno possa avere lo spazio di posire e dire la sua e ascoltare gli altri in modo molto più attento e uguale anche, senza distanze tra i tavoli della Presidenza e quelli dove le persone stanno magari a sedere. E su questo arrivare poi a un momento nazionale anche che lanci questo lavoro e questa proposta sul serio anche a livello diciamo mediatico, che è uno dei nostri problemi che abbiamo e ci trasciniamo dal tempo. Ecco io penso che questo impegno bisogna prenderlo, bisogna farlo. Questo è un modo anche proprio per far vivere poi la tematica stessa dei beni comuni e affrontarla poi a varie facce che sta dalla scuola alla questione del lavoro, dei diritti, alla questione di genere, uomini, donne, alla questione del fisco. Sono molte le cose. Però credo che dobbiamo affrontarle con un piglio molto aperto e molto partecipato e questo credo che debba essere un impegno che esce da stasera. Io come me stessa e anche come altre rosa su questo sono assolutamente convinta e penso che bisogna spenderci tutte le forze possibili. Lasciamo Maurizio per ultimo così conclude. Tommaso tu sui beni comuni hai scritto moltissimo sul senso della città come bene comune che crea appartenenza, crea cittadinanza. Le città sono state svendute ai privati, Firenze è stata la prima, è successo più che in altre città, ma come sono state svendute ai privati anche i servizi, sono state svendute ai privati le imprese. Può ripartire da lì la sinistra unita, può ripartire dicendo che si devono espropriare le imprese che sfruttano i lavoratori, espropriare le imprese che dovrebbero fornire servizi pubblici e che invece pensano soltanto all'interesse privato. È diventato un tabù questo, cioè una delle cose alle quali dobbiamo rinunciare se vogliamo fare una sinistra più largo e invece una di quelle sulle quali puntare per allargare la sinistra all'esterno di qui. Sì, io credo che sia uno dei punti fondamentali. I beni comuni, intendendosi e sono molto d'accordo con Chiara sul fatto che i beni comuni non significano, e su questo ci sono stati alcuni equivoci, un fronte alternativo a quello del pubblico. Perché c'è stato un momento paradossalmente in cui da una parte c'era lo smontaggio dello Stato liberista e dall'altro c'era una radicale sfiducia nello Stato per cui al bene pubblico si è sottolineato al bene comune. E questo è stato un pericolo. Io ho vissuto due esperienze da vicino, il Teatro Valle a Roma e l'asilo filangeri a Napoli. Il Teatro Valle, di cui io ero uno dei due garanti della fondazione, che ha provato una battaglia dura e sacrosanta sul terreno dei beni comuni e che è finito come è finito, come dire, vorrendo affermare delle ragioni di principio che rischiavano di essere astratte, e l'asilo filangeri in cui, certamente con la presenza di un'amministrazione come crede Magistris, che tra tanti limiti però ha anche avuto la capacità di innovare su questo terreno, attraverso una delibera scritta da Paolo Maddalena, basandosi direttamente sulla Costituzione, ha rimesso a disposizione della città e soprattutto della comunità che l'ha salvato un luogo fondamentale del centro di Napoli come l'asilo filangeri, in nome di pubblico forte. Da questo punto di vista io credo che la vera frontiera è la scuola. Io credo che tutto ciò che noi diciamo ha il banco di prova definitivo nella scuola, il bene comune fondamentale in cui i cittadini imparano a essere tali, imparano a diventare cittadini. C'è un discorso bellissimo fatto incostituente dal concetto Marchesi, grande comunista, grande latinista, rettore dell'università di Padova, il rettore che lascia il posto a Padova invitando gli studenti a passare alla resistenza, che dice qualcosa che vorrei sentire dire oggi, dice a scuola non si diventa ragionieri e non si diventa architetti e non si diventa professionisti, non si diventa veneti e non si diventa siciliani, si diventa cittadini ed è l'unica possibilità che abbiamo per farlo. Era il 47. E si trova d'accordo, poi si scannano sul problema della scuola religiosa, ma si trova d'accordo con l'altro relatore sulle ragioni di scuola e di cultura che si chiamava Aldo Moro. Il dialogo fra i due è impressionante per qualità e per fiducia. Lo citavamo l'altro giorno alla cena di cui parlava Chiara, perché è una frase di Moro che io poi ho applicato in questi giorni alla faccenda dei migranti, ma è Moro che parlando, duettando con Marchesi dice, noi democristiani crediamo allo Stato, perché lo Stato è la forma più grande di solidarietà umana. In cui poco dopo Dossetti incostituente, altro cristiano radicale, dice lo scopo dello Stato qual è? Il bene comune, realizzare il bene comune. Io credo che dovremmo avere il coraggio di dire questo, lo dice Sanders, lo dice Corbyn, lo dicono le migliori riflessioni anche negli Stati Uniti, la rivalutazione del ruolo dello Stato. Luciano Gallino, una persona che credo manca a molti di noi, diceva che la Costituzione materiale, quella veramente applicata in tutta Europa negli ultimi 30 anni, aveva un solo articolo che diceva così, lo Stato provvede da solo a eliminare se stesso in tutti gli ambiti della vita comune e questo è stato l'articolo applicato da tutti. Allora o noi abbiamo il coraggio di ricostruire lo Stato oppure non abbiamo gli strumenti per creare cittadini capaci di lottare, capaci di conflitto in nome della cittadinanza. Firenze da questo punto di vista è una frontiera, io non so quanto si è saputo, quanto si è visto in Italia ciò che ha fatto prima dell'estate il sindaco Nardella. Nella piazza dove Savonarola bruciava i libri proibiti, bruciava gli strumenti dell'eresia, il sindaco Nardella ha messo alla berlina la nuova eresia, cioè le borse contraffatte, le cinture contraffatte, le griff false vendute per le strade di Firenze e ha detto che chi vende quella merce contraffatta dovrebbe essere espulso dall'Italia. Cioè si mette alla berlina nel cuore della città il più pericoloso crimine sociale, che non è l'evasione fiscale, che non è la corruzione politica, che non è la violenza fascista, ma è, che non è lo stupro delle forze dell'ordine, visto che siamo a Firenze, ma è che cosa? Il fatto che si permetta di violare l'ortodossia dell'unico Dio, cioè il mercato, dell'unica religione. Per cui Savonarola bruciava l'eresia, allora l'eresia qual è? Quella. Allora spiegate a un giovane senegalese che viene in Italia e vende una borsa fatta da italiani che contraffa un marchio italiano e lo vende agli italiani perché glielo dà un italiano, ma lui deve andarsene dall'Italia. Provate a spiegargli questo e questo lo fa uno che in televisione dice io rivendico il fatto di farlo perché sono di sinistra e la sinistra non rinuncia alla legalità. Io vorrei una sinistra che sapesse che cos'è la giustizia e anche che sapesse mettere sotto radicale critica, diciamo una cosa impopolare, il concetto di lusso. Firenze si è ormai, come dire, si sta genuflettendo al dio del lusso, il Salone 500, il grande Salone Civico, il Palazzo Civico, ospita le convenzioni mondiali dell'art luxury, del lusso estremo. In questo momento nel cuore della città un super ricco argentino si compra un pezzo del tessuto storico e vuole fare una teleferica per portare direttamente i turisti al Forte Belvedere. È una città immaginata come un gingillo, un giocattolo dei ricchi in cui i fiorentini nella migliore delle ipotesi dovranno fare i servitori, per non dire gli schiavi. Lo stesso magnate che si compra la villa di Caffagioli in Mugello e la regione toscana si affretta a deviare la strada pubblica perché possa facilitare il riposo dei super ricchi che saranno in questo resort. Come si tiene insieme l'idea che la città sia il luogo dove si diventa cittadini? In questo parola cittadino da qualche parte viene. Come si tiene insieme il fatto che la polizia è il luogo della politica con il fatto che la nostra città deve diventare il Luna Park dei grandi ricchi? Non si tiene insieme. Da questo punto di vista se io dovessi fare una lista a Firenze, forse la chiamerei Firenze è una città, perché questa ormai è la cosa più rivoluzionale da dire, che questa è una città e come città dobbiamo ricominciare a pensarla, dobbiamo ricominciare a dire che Firenze non è solo quella della cartolina della cerchia dei viali, dobbiamo ricominciare a dire che cos'è la vita morale, politica di questa città, una città che ha avuto dei momenti alti, forti. Cosa direbbe oggi Giorgio Lapira di fronte alla crisi dei migranti? Cosa direbbe un sindaco come Fabiani? Cosa direbbero di fronte a quello che sta succedendo in Italia? Firenze che voce ha? Ha la voce che protegge i marchi del lusso. Cosa sta succedendo alla Ginori, a Sesto? Sta succedendo che una delle fabbriche della bellezza, l'abbiamo chiamata così nella mostra che ha il Bergello ora, rischia seriamente a questo punto di chiudere, perché una banca tipica della globalizzazione che non risponde a nessuno, si rifiuta di accettare la proposta d'acquisto dei terreni che sono stati venduti fraudolentemente dagli amministratori di quella stessa impresa, finendo poi a processo, perché spera che domani una nuova giunta, dopo quella di Lorenzo Falchi, una giunta PD, dia l'autorizzazione a fare una speculazione di inizio. E in nome di questo si rischia di far chiudere uno stabilimento che paga 900 mila Euro d'affitto l'anno e che cerca di ricomprarsi i terreni. Non è uno stabilimento in mano a una confraternita di filantropi del gruppo Keirin Gucci, Franco Arabo, ma che cerca di comprare il terreno e almeno a loro dar retta una banca d'affari fuori del controllo di tutti. Questo succede alle porte di Firenze per colpa delle scelte politiche che sono state fatte. Chi sta arremando contro questa situazione è lo stesso che spera che si faccia un aeroporto. C'è un blocco sociale forte, un blocco politico forte in questa città che rema contro l'idea che la città possa ancora appartenere ai lavoratori. Guardate che la Ginori è un luogo, è un luogo della nascita del mutuo soccorso, è un luogo che già nell'800 era un luogo dove si provavano a sperimentare delle situazioni che tenessero insieme al lavoro la formazione. Cioè è nel 1830 che il nipote di Carlo Ginori fa una scuola elementare nel complesso della Ginori per i figli dei lavoratori della Ginori. E oggi siamo a una regressione barbarica in cui tutto questo viene immolato sull'altare di un mercato senza regole e diciamo che questa è la città della civiltà e del rinascimento. Io credo che da questo punto di vista il nesso fra città, democrazia e conoscenza sia centrale e che questa partita vede Firenze in prima linea. Abbiamo partorito il mostro negli ultimi anni, diciamocelo, abbiamo regalato all'Italia un disastro. Forse è venuto il momento di scattare, perci. Tu dicevi che la scuola è il terreno dove si diventa cittadini, invece adesso la scuola è diventata anche se ha servito all'impresa, l'alternanza scuola-lavoro suggella proprio quest'idea, cioè che la scuola debba invece prepararti al mondo del lavoro e non alle esigenze del lavoratore ma alle esigenze delle imprese. Con l'alternanza scuola-lavoro i voti che si ottengono dipendono da chi ti fa lavorare, la sua valutazione inficia poi il risultato finale. Sinistro Italiano su questo sta facendo una battaglia e vuole fare una battaglia per l'istruzione gratuita, per tornare a far sì che la scuola sia appunto quello che c'è scritto in Costituzione. Certamente questo è uno dei punti dai quali partire, l'istruzione gratuita è per tutti, l'università che sia accessibile a tutti e che non sia invece l'ennesimo strumento della lotta di classe fatta dai ricchi verso i poveri perché è chiaro che chi ha la possibilità di andare all'università senza dover anche lavorare è facilitato e chi viene da una famiglia dove ha avuto la possibilità di formarsi e studiare è facilitato rispetto a chi ha dovuto faticare per imparare una lingua. Quindi rimettere al centro la scuola come strumento di cittadinanza e la scuola gratuita a tutti i livelli, l'istruzione gratuita per tutti è un punto sicuramente al quale deve ripartire la sinistra unita perché purtroppo invece sul coinvolgimento delle scuole private nel progetto educativo ci sono stati molti cedimenti anche nel centro sinistra, uno dei motivi per il quale è fallito il centro sinistra è sicuramente anche quello lì. Noi stiamo su questa questione che ha ricordato adesso Francesca, stiamo lavorando a una proposta la presenteremo tra poco, una proposta organica fatta di numeri, di cifre, si può fare, è possibile in questo paese avanzare una proposta perché il sistema della formazione, dell'istruzione sia effettivamente gratuito, cioè possa garantire a tutti e a tutte, a prescindere dalla propria condizione, il pieno accesso al percorso formativo che come ricordava Tommaso non solo è uno dei più importanti beni comuni intesi come condizione necessaria per definire la cittadinanza come percorso di autonomia degli uomini e delle donne in questo paese, dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, ma immaginando la scuola e il percorso formativo nei suoi vari gradi come la principale infrastruttura civile, sociale e culturale di questo paese. Adesso non è un caso che la scuola, l'università, siano al centro, ma non, diciamo la verità, col governo Renzi, siano al centro da 30 anni di un attacco continuo, l'alternanza scuola-lavoro, vedo là giù Loredana Fraleone, ci conosciamo da tanti anni, di queste cose abbiamo discusso tante volte, lei con tanti e tante altre, è l'ultimo tassello, se ne parla da Tommaso, arriva ora in modo particolarmente brutale anche perché quella vicenda nella sua costruzione concreta è costellata di episodi perfino clamorosi, talvolta drammatici, ma è l'ultimo tassello, l'aziendalizzazione, cioè l'idea che quella fondamentale infrastruttura, non come talvolta qualcuno anche tra noi dei movimenti pensava venga privatizzata, non c'è qualcuno che se la compra, c'è qualcuno che le fa le scuole private e ci fa anche i soldi, ma non c'è qualcuno che si compra la scuola, l'obiettivo è un altro, è trasformarla in un'azienda dal punto di vista della sua organizzazione, dei saperi che produce, da quanto tempo in questo paese non c'è più una discussione pubblica vera, poi un lavoro c'è stato, un lavoro poco visibile, ma da quanto tempo non c'è più una grande discussione e anche qui, fatemelo dire, anche qui noi, parlo di me per prima, la sinistra, c'è qualche fatica, qualche difetto, non organizza più una grande discussione sui saperi, su che cosa occorre studiare per fare che cosa, per costruire quale idea di cittadinanza, dunque sì, noi di questo vogliamo fare un punto decisivo, di un'idea di ricostruzione della democrazia di questo paese, nel suo senso più profondo. E nello stesso tempo penso che su questo terreno, su alcune grandi battaglie che sono state ricordate e che hanno caratterizzato la lotta per i beni comuni, l'acqua, piuttosto che il diritto alla mobilità nelle città e fuori dalle città, le questioni che ricordava Paolo prima, io sono molto d'accordo, io penso davvero, l'ho detto nel primo intervento, parlando del modo con cui oggi la politica si ricostruisce, si reinventa, trova nuovo ossigeno, io penso che le città siano un nodo decisivo di questa sfida. Insieme penso che c'è un'enorme battaglia culturale che va riorganizzata anche su questo fronte. Qualche mese fa, molti credo e molte di voi ci avranno fatto caso, una notizia mi ha colpito molto e mi ha molto preoccupato. A Torino in particolare, è partita da lì la vicenda, una lunga avvertenza di genitori, o i genitori sono il disastro dei figli, bisogna tenerli lontani dalle scuole, dai luoghi della formazione, perché troppo a bocca ci mettono è sempre un guai. Un gruppo di genitori vince un'avvertenza, ottiene ragione, alla fine dal giudice, per poter mandare i figli a scuola col panino preparato a casa, ora anche a Firenze, sottrarli dalla mensa. Ora, perché mi ha molto preoccupato quella vicenda? Non perché ho un istinto statalista, tutti uguali, senza differenze, ma perché c'è un punto in quella cosa lì. C'è la rottura della dimensione del comune a favore della dimensione del particolare e questa idea qui, che cresce dentro la società, nella testa delle persone, è il terreno su cui poi passa, come un coltello caldo nel burro, la costruzione del primato, del particolare contro il collettivo, nella gestione delle aziende pubbliche, nella gestione degli grandi interessi, nel modo in cui si organizza la vita delle persone, la società nella quale viviamo. Allora, come vedete, io penso che, diciamo, su questo, come su tante cose di cui abbiamo discusso stasera, noi dobbiamo fare due cose insieme. Dobbiamo definire una piattaforma, un programma delle idee, farlo in modo serio, avendoci in testa non solo dove vogliamo andare, ma anche il modo con cui ci andiamo, quando è possibile. E nello stesso tempo abbiamo bisogno di ricostruire pensiero, idee, di ricostruire il veicolo con cui questo pensiero torna a giocare una partita di egemonia. Perché la verità è che la debolezza della sinistra oggi in questo Paese, sì, è il frutto delle tante divisioni, sì, è il frutto dei limiti, degli errori delle sue classi dirigenti, quelle di ieri, non solo di chi ha votato, è anche di chi non ha votato, perché gli errori li abbiamo fatti tutti, e quelle di oggi, quindi io per primo. Ma è innanzitutto il frutto e il risultato di una perdita di egemonia nel corpo profondo del Paese. E noi su questo terreno dobbiamo avere il coraggio, la passione e l'intelligenza di sfidare una nuova battaglia di egemonia. Lo dobbiamo fare così, se no non ci crederà nessuno. Potremmo essere perfetti, senza incoerenze, con un programma super radicale, ma non ci crederà nessuno. Dobbiamo avere il coraggio di osare fino in fondo una nuova battaglia di egemonia. Io penso che abbiamo un po' di idee per fare, noi abbiamo anche tante risorse, e forse se gliela mettiamo così, la sfida, un po' di quelle risorse tornano anche ad avere la voglia di farla. E forse questo torna anche un po' ad emozionarle le persone. Dobbiamo tornare ad avere il coraggio di dire che vogliamo cambiare questo Paese con delle idee, con una piattaforma, ma che lo vogliamo fare perché le cose che abbiamo davanti non vanno bene. Dipingono un mondo, una società che fa paura, che non vogliamo per noi, non vogliamo per i nostri figli e che dunque proponiamo una battaglia che abbia la dignità, la forza e la passione di provare a indicare una strada migliore per tutti. Io penso che lo possiamo fare e che lo dobbiamo fare. L'ultima domanda su 5 Stelle, del resto te la sei cercata, ce le hai fatti votare, adesso ne devi rispondere. Io penso che la sfida di 5 Stelle deve essere fatta su questo terreno del pubblico perché loro giocano una grande ambiguità per quel che riguarda invece il pubblico. Cioè loro a parole, come dici tu, parlano della città bene comune, però poi in realtà dimostrano poi sempre anche nei fatti questo fastidio invece nei confronti dello Stato che percepiscono come se fosse altro rispetto al bene comune. In questo sono in linea con il Partito Democratico. Cioè lo Stato è una spesa da ridurre, è clientela da abbattere, l'abbiamo visto con l'Atac a Roma, lo vediamo poi con gli sconti fatti ai palazzinari per costruire lo Stato della Roma invece delle case popolari. Siccome se ne è discusso tanto anche tra i compagni, se poi i 5 Stelle sono di destra o di sinistra, se invece al loro interno c'è la possibilità di instaurare questo dialogo, ecco tu che lo hai vissuto, questa possibilità c'è, cioè i 5 Stelle poi sono di destra o di sinistra quando tu hai a che fare con loro politicamente. È solo una retorica questa del bene comune o davvero invece c'è conoscenza di quello che è il pubblico e la sua funzione? Perché se il pubblico sono poi gli autobus a Roma, poi sono anche le scuole in Italia e sono le aziende alle quali si regalano i soldi per assumere invece che chiedere in cambio politica industriale. Una domanda importante, io provo a rispondere così perché sono innamorato della sinistra con tutti i limiti che noi abbiamo, però abbiamo costruito intelligente culture in questo Paese. E allora quando ragioniamo anche criticamente sulla forma dello Stato, su come è stata attuata la Costituzione, noi facciamo anche qua, cito Tommaso, l'ha detto adesso, lo Stato è qualche cosa da difendere, a prescindere, poi dobbiamo essere intelligenti, critici, ma è lo Stato quello che tutela la parte più debole della società, questa è la legge che ci hanno insegnato i nostri padri, perché questa è la storia del riscatto delle persone dei ceti più popolari in Italia, nel mondo, dappertutto. Loro questo ragionamento l'hanno proprio superato a pie pari e l'hanno superato grazie alla devastazione della politica che c'è stata in questo Paese, questo io ne do atto, loro hanno vinto sulla base, tanto destra e sinistra sono tutti uguali, poi la sinistra estrema non conta più nulla e dunque hanno rotto questo muro che da una parte è andata bene che non è andato a Casa Pound per carità, anche qua c'è ragionamento, però dall'altra parte non ha aiutato l'evoluzione di un pensiero, all'approfondimento di un pensiero e questo, scusatemi, è l'elemento centrale della ripresa della sinistra, è qua che noi dobbiamo spenderci, dire che lo Stato è qualcosa che serve come elemento redistributore di ricchezza, di possibilità di istruzione, di riscatto, di possibilità di evolvere, questo mi sembra. Però fatemi dire l'ultima cosa prima delle conclusioni di Maurizio. Io trovo una cosa che veramente un po' mi pesa, la riprendo perché la mia critica feroce che c'è stata in questi anni contro la sinistra romana che ha creato 15 micro aziende private dentro il corpo di un'azienda municipalizzata che è stata costruita nel 1910-12, insomma dal grande pensiero radicale socialista dell'Italia. L'hanno fatto perché hanno il DNA che si è variato? No, non l'hanno fatto per quello. Io ho una spiegazione che vorrei provare appunto a porvi per capire che è la grande possibilità che abbiamo, che è questa. Non c'è dubbio che nella grande offensiva neoliberista degli anni 90, guardate coincide con mani punite, dovremmo ragionarci anche su questo, le cose funzionano per bacco e come se funzionano? Perché quando loro pongono il problema, privatizziamo tutte le città perché il pubblico è incapace, il pubblico è corrotto, perché se rubano tutto, per bacco se i valori immobiliari sono aumentati in questo paese, per bacco se tutte le famiglie italiane hanno potuto dire beh vabbè la casa mia valeva 100 mila euro, adesso vale 150, aosto neoliberismo farà schifo, ma insomma quello che mi tolgono chiudendo la sanità, quello che mi tolgono per mio figlio chiudendo l'istruzione, io ce l'ho perché il mio salvadanaio aumenta. Guardate che questo ragionamento è andato avanti e è andato avanti alla grande nel senso che loro hanno costruito magistralmente il consenso perché c'aveva un riscontro concreto nella vita concreta di tutti noi, di tutte le nostre famiglie. Dal 2008 e sono passati ormai quasi dieci anni, la musica è cambiata e siamo noi che dobbiamo mettergliela nel campo sta roba, cioè il crollo dei valori immobiliari nelle nostre periferie, cioè nel nostro insediamento sociale è drammatico, io ce l'ho a Roma che le case valgono la metà di quello che valevano nel 2008, c'è gente che si è indebitata per fare un mutuo per comprarsi casa, che paga la casa molto di più di quello che vale oggi sul mercato, una follia, cioè un sacrificio economico devastante per le nostre famiglie. Chi ha comprato invece le ville più belle e il centro storico di Firenze, lì i valori immobiliari aumentano, a Piazza Navona si vende a 20.000 euro a metro quadrato, io lo dico a tutti perché è la mia misura, io vengo dall'Appennino Marchigiano, quello devastato dal terremoto, prima del terremoto la casa vicina alla casa della mia nonna, una casa a schiera nel centro storico, un posto di una bellezza devastante però un posto marginale, è stata venduta a 20.000 euro, sono 60 metri più 60, più l'orto delle tipologie a schiera, questa è 20.000 metri quadri a Piazza Navona, 20.000 euro a metro quadrato, una casa da cielo a terra con l'orto, questa è la disuguaglianza che loro hanno creato, questa disuguaglianza glielo dobbiamo ributtare nel campo loro perché non possono raccontare che questa storia è stata indolore, che siamo diventati tutti più ricchi, noi non abbiamo più welfare, non abbiamo più l'istituzione pubblica, la sanità pubblica ormai è quasi devastata a specie nella nostra periferia, il piccolo salvadanaio che ci teneva in piedi, le nostre proprietà immobiliari sono crollati ma che aspettiamo a dare battaglia sul fatto della città, che la città ridiventa appunto un fatto complessivo, l'aiuto perché qua c'è Tommaso, insomma lui è maestro in questo, ma insomma la racconto sempre, ma che succede nella Siena ricca, perché Siena 300 è una città ricchissima, fa concorrenza a Roma, pensate un po' come se montano la testa i ragazzi, però c'è un personaggio incredibile, c'è un piccolo artigiano che dice siccome qua arrivano zoppi e sciancati perché scendono dalla Francia, poi ripartono a Roma sotto tutti i mezzi rotti, facciamo un ospedale e compra un piccolo magazzino che diventerà Santa Maria della Scala, uno dei posti più belli del mondo, è quello che dobbiamo ricostruire, avere la sensibilità che le città cambiano in funzione delle esigenze sociali, lui ha la sensibilità di capire che c'è un'esigenza sociale della salute pubblica di chi va verso Roma per il giubileo, allora noi oggi dobbiamo ricostruire un welfare urbano che tiene ancora insieme questa società che dà invece segni di grave scollamento, guardate lo possiamo fare solo noi perché solo noi abbiamo a cuore l'attuazione della Costituzione e abbiamo a cuore la ricostruzione dello Stato che ridistribuisce le occasioni per tutti. Lasciamo le conclusioni allora a Maurizio Cerbo, ti chiederei Maurizio però di parlarci anche del futuro perché abbiamo detto la sinistra non è soltanto fare adesso un comitato elettorale, un soggetto che si presenti alle elezioni ma dobbiamo anche pensare che cosa sarà la sinistra dopo, noi in questo momento non ne stiamo parlando perché tutti i giorni invece parliamo soltanto delle alleanze di Pisapia, di MDP e non parliamo del fatto che stiamo desertificando il pianeta, del fatto che continuiamo a comprare oggetti su Amazon perché costano meno senza chiederci come mai, costano di meno come è possibile che le multinazionali diventino sempre più ricche e se poi gli oggetti che vendono e producono costano sempre di meno, evidentemente c'è qualcun altro che ci sta rimettendo. Insomma a parlare del modello di sviluppo noi in questo momento abbiamo un po' rinunciato o meglio lo facciamo, poi lo facciamo nei nostri tavoli di lavoro, nelle nostre discussioni ma non viene affatto fuori nel dibattito pubblico, non viene affatto fuori e quindi nessuno ha più la percezione che la sinistra nascente sia anche quella che si occupa di questa cosa qui, quindi sì di attuare la Costituzione ma anche di immaginare gli scenari che ai tempi in cui la Costituzione è stata scritta non erano immaginabili in queste proporzioni, per esempio quello del disastro ambientale, la sinistra deve occuparsi di comandare le elezioni oggi ma anche poi di come organizzare il mondo di domani. Innanzitutto io ringrazio tutti i compagni e compagni che hanno partecipato a questo dibattito, soprattutto Francesca che è stato più importante e ha messo il dito in molte piaghe. Ringrazio anche chi la pensa diversamente da me perché l'unità si costruisce discutendo con chi la pensa diversamente, se no sarebbe un monologo, un po' triste anche. Per rispondere a Francesca io penso che la sinistra l'ultima cosa di cui si dovrebbe occupare sono le elezioni perché le elezioni sono il riassunto di quello che hai fatto prima. Il problema oggi è che la gente normale quando pensa alle sinistra pensa a tutte le catastrofi che gli sono piovute addosso in questi anni. Io penso che una sinistra come la vedo per il futuro è la sinistra di quelli che lottano contro le catastrofi climatiche e guardate che non è che non esiste. Perché quello che facciamo una mattina alla sera dobbiamo tornare quelli che queste lotte le fanno e molti non sono iscritti a Rifondazione Comunista, ma non si offendano spero, ma devi darvi un grande studioso americano, uno dei più importanti, almeno io e Berdini siamo grandi estimatori, dice che dicono che è scomparso il comunismo, ma è pieno di comunisti di fatto, c'è gente che pensa che ciò che è comune va difeso e a noi non ci interessa che tutti sembrano fare la testa di Rifondazione Comunista, ma con questi comunisti di fatto spero non si offenda a nessuno, noi vogliamo metterci insieme, ma che lo siano per davvero l'altro giorno ho avuto un'immagine della sinistra, Gino Strada e Minniti, io non credo alla parola unità fino a se stessa, la sinistra si ricostruisce facendo una scelta, io sto con Gino Strada, chi sta con Minniti fa un'altra cosa, mi dicono sei contro l'unità, ma benedetto in Dio, Gesù Cristo entrò dicendo, sono venuto a dividere con la spada la citazione corretta, ma noi, questa storia è l'unità, l'altro giorno ero in treno, siccome come sapete io sono stato letto quattro mesi fa segretario di Rifondazione Comunista, ma siccome nessuna trasmissione televisiva di questo paese in cui c'è un regime di centrodestra e centrosinistra bipartisan perché nessuno garantisce, pure siamo il quinto partito per sottoscrizione dei cittadini che liberamente decidono di destiare il 2 per mille, quindi qualcosa esisteva, almeno quello gli dovrebbe arrivare, quindi viaggio sui mezzi pubblici e la gente non mi conosce e c'era un signore che mi voleva convincere che l'unità è la cosa più importante, fortunatamente non ce l'aveva con me, ce l'aveva con quei due estremisti di Bertani e D'Alema che vogliono fare l'ascissione e io per divertirmi li ho difesi, cosa che non mi... poi andrò a chiedere, ma perché lo invitavo a ragionare e questo mi diceva no perché io sono di sinistra e adesso ci dobbiamo riunire tutti intorno a Renzi, cioè perché dico... e io cercavo di spiegargli, guardi ma se quelli non sono d'accordo faranno un'altra cosa, mica e poi avranno litigato per dei motivi, ma lei riconosce i motivi per cui non stanno insieme con quell'altro? No non me ne frega, poi a diritto mi ha detto ma lui sta a fare quello e facevano pure loro, io lì ho avuto difficoltà a dirgli non è vero, perché effettivamente è un allievo un po' maleducato ma la lezione è lamperata anche un po' da quelle parti, allora l'unità io credo fondamentale è il fatto che quelli che la pensano nella stessa maniera e che agiscono nella stessa maniera oggi sono divisi e sono deboli e io quelli e quelle vorrei che fossero insieme e in tutta Europa si sono uniti, sono nate grandi aggregazioni, hanno trovato anche nomi nuovi dentro le quali ci sono comunisti e non comuniste, cavolo governiamo Barcellona e Madrid, cioè non si sa, ma io sono stato in un'assemblea in un palazzetto dello sport con 5.000 persone che alzavano la mano e votavano lo statuto, il programma di un paio in comune che adesso è diventato Catalogna in comune e ci sono dieci partiti dentro, ma sono della sinistra, a me piace che l'ha usato il termine Tommaso, non radicale, ma non radicale nel senso che chissà sono tutti comunisti, no, che hanno un approccio proprio... ...grammatico e di un po' perché dalla catastrofe ambientale in cui noi viviamo, questo governo, questo Parlamento, un inciso, io non è che ce l'ho con qualcuno però non ho mai visto che una forza della maggioranza di governo dirige e riorganizza la sinistra e l'opposizione perché è quello che sta accadendo in questo momento, perché degli esponenti di questa maggioranza di governo, alcuni sono stati chiamati a dirigere maggioranza di governo, questo governo ha persino manomesso la valutazione dell'impatto ambientale con una modifica, la legge che prevede che tu in presa ti sei scordata di farla, l'opera non si blocca, si farà posteriori, sarebbe stata una rivolta ambientalista, un tempo ma in questo Paese è ormai addormentato, non è che noi non ci siamo, dobbiamo avere la forza, i nostri maestri ci hanno insegnato che non bastano le idee giuste e questa forza deve essere popolare, per essere popolare è fatta della capacità di coniugare gli interessi concreti delle persone, Paolo ha fatto degli esempi sacrosanti, io credo che sia scandaloso che in questo Paese non si risponda all'emergenza abitativa che non riguarda solo i rifugiati, riguarda gli italiani prima di tutto e poi l'invenduto dei palazzinari è esente dall'Imu e su questo non c'è uno scandalo, anzi abbiamo tolto, abbiamo detassato le case di Russo e poi questa maggioranza che poi dovrebbe essere al tempo stesso governo eppure dirigere l'opposizione, penso che noi dobbiamo avere una visione di futuro, gli esempi che citava Paolo erano di una sinistra che era popolare, era di classe e al tempo stesso coinvolgeva i migliori intellettuali, le migliori cervelle, i migliori competenze di questo Paese e aveva il coraggio anche di andare controcorrente perché non è che se tu proponi cose giuste e la gente arriva e ti applaude subito, all'inizio la cosa giusta sembra strana, le persone sono abituate a vederla come impossibile, c'è un lavoro culturale da fare e per questo anche questa cosa che ci dobbiamo unire tutti come se dovessimo andare a un concorso a premi e poi vincere il premio, fare la sinistra è una fatica, però è ora che la ricominciamo a fare, perché sapete di unità in unità non si va mai da nessuna parte se non è un'unità per degli obiettivi che siano effettivamente comuni, per salvare il servizio sanitario nazionale noi dobbiamo fare una battaglia, in questo Paese si sta smontando, in questo Paese non è che i tagli sono casuali e nei contratti rintroducono il welfare aziendale, chi non ce l'ha quel contratto? La sanità pubblica si sta smontando, lo sapete qual è il dato? Perché noi parliamo sempre che dovrebbero arrivare delle catastrofi, avvenire, noto quotidiano Boscevico, l'altro giorno ha riportato l'articolo di un demografo autorevolissimo che ci comunicava che nel primo trimestre di quest'anno la mortalità è aumentata del 15% e che se il trend dura tutto l'anno avremo il livello di mortalità come Italia del 1944, vuol dire che questo Paese contro la popolazione, contro le classi subalterne è in atto da anni una guerra, perché quelli che stanno applicando a noi sono i piani di aggiustamento strutturale, che noi una volta facciamo una solidarietà con il terzo mondo e diciamo che stanno imponendo agli africani, all'America Latina il Fondo Monetario Internazionale, è quello che stiamo subendo noi. Ed è per questo che ci costringono a discutere dell'invasione degli immigrati dalla mattina alla sera. Ma anche qui diciamocelo con chiarezza, per essere efficaci anche nel contrastare il razzismo, che esplode. Noi abbiamo bisogno di indicare delle alternative sociali e indicare anche delle responsabilità per i problemi che ha la gente e dobbiamo avere la forza di dire cosa è che è la sinistra unita. Io vi voglio ricordare una cosa, Roma è stata governata un sacco di anni da sinistra. Io inviterei Paolo la prossima volta a intervistarlo per capire, quando c'era il Partito Comunista andò a governare nel 1975 e eliminò le borgate e consegnò la casa a decine di migliaia di persone che non avevano mai visto un tetto. Tant'è vero che Sergio Citti fece lo spot elettorale per il Partito Comunista pochi anni dopo, dove c'era un borgataro che per la prima volta diceva che grazie al comunismo mi sono fatto il bagno di una maschera a bagno che non l'avevo mai visto. Ma dopodiché Roma è stata governata dalla sinistra unita. Quanti vani, Paolo, sono stati costruiti in deroga e poi col piano regolatore e con accordi di programma? Quanti milioni di metri cubi sono stati regalati ai padroni dei giornali che decidono qual è la sinistra potabile e quella che invece non si deve vedere? E quante case popolari per chi ha bisogno di un tetto per vivere, per le giovani coppie, per chi guagna mille euro al mese sono state costruite? E quando io mi sento dire che il popolo si è spostato a destra, sarà che è un'estrazione popolare? Ma io ho la sensazione che sono le classi dirigenti, comprese quelle di sinistra, che si sono spostate a destra e hanno lasciato il popolo non capire più niente sulla differenza destra-sinistra. E io trovo anche che dobbiamo dire la verità, perché vedete è vero che la gente, sinceramente la gente mi chiede altre cose, mi chiede non mi fa votare la gente che va là e poi fa il contrario di quello che avete detto, è la cosa principale. La gente mi chiede basta con le fregature e soprattutto quelli che erano di sinistra che votano il Movimento 5 Stelle o si astengono, io non vi voto più, mi dicono perché tutte le volte che vi ho votato avete vinto e poi si è fatto il contrario di quello che dicevate, o no? Perché il finanziamento nelle scuole private, tutte le cose di cui abbiamo parlato sono marciate in questo Paese con delle gambe. Tommaso è stato brevissimo nel fare un elenco, poi poteva essere finito ma l'assemblea del Brancaccio doveva durare una mattinata e non poteva dilungarsi ulteriormente e io non l'ho trovato per nulla estremista, Tommaso, perché diceva la verità e solo la verità ti consente di essere credibile e di farti capire. Allora, lo dicevi tu, io posso dirlo che noi dovremmo essere la sinistra ai beni comuni, posso dirlo? Che senza governare niente, perché quando abbiamo governato non abbiamo ripubblicizzato, ma come piccola sinistra che ha raccolto le firme per le strade, noi abbiamo vinto la battaglia per l'acqua, l'abbiamo vinta una battaglia, non la guerra, però l'abbiamo vinta e l'abbiamo vinta anche per il nucleare e quando abbiamo raccolto le firme siamo stati in mezzo alla gente, avevamo parole chiare, che si capivano, abbiamo visto che magari ragazzi che sembrano spoliticizzati, come si è visto, lo diceva Tommaso sulla Costituzione, magari quelli che tu dici ma come stanno sempre a vedere, ma uno magari sui social scopre pure qualcosa di sinistra che gli piace, insomma non è che poi siamo così impopolari, però se le cose che abbiamo detto stasera le diciamo in maniera chiara, le facciamo poi, ed è quella la prospettiva di futuro, andiamo a spiegare, noi credo che, a me dicono che siamo sconfitti perché siamo, io non credo che in Italia noi siamo stati sconfitti perché siamo stati troppo radicali, come si dice, io lo dico, io penso che la sinistra è sconfitta socialmente perché oggi è un'estrema minoranza di questa società, perché è stata troppo politicante, è stata, nell'immaginario della gente, la sinistra non sono quegli ideali di cui noi stiamo parlando purtroppo, perché quando quegli ideali vengono fuori, possono essere condivisi, allora io dico alcune cose, ambiente, noi credo che possiamo costruire un programma per questo Paese, ma io direi per l'intera Unione Europea, di riconversione ecologica, dell'economia, di stoppa al consumo di suolo, santo cielo, questo Paese, di messa in sicurezza dei centri storici perché non abbiamo bisogno di recupero del patrimonio edilizio già edificato che può dare lavoro a centinaia di migliaia di persone e lo dovremmo fare con delle scelte, mi dispiace, che non possono essere la TAV, siamo d'accordo che la sinistra ebbe essere NOTAV? Siamo d'accordo che qualcuno è contrario? Siamo d'accordo? Toma, la prossima volta, dillo, NOTAV. Perché lo dico? Perché guardate che alla Val di Susa la ditta che sta lavorando adesso, mica è una ditta di Renzi, mi pare che venga all'Emilia Romagna, si chiama CMC di Ravenna. E allora io se vado dai fratelli e le sorelle della Val di Susa, io gli devo dire che questa volta quelli che saranno votati per andare in Parlamento per la sinistra saranno gente che non lavora per la CMC di Ravenna ma per bloccare la TAV. Siamo d'accordo su questo, saremo uniti. E devo poter unire, se uno è un volontario di emergency, io gli devo poter dire con assoluta certezza che chiunque gli chiederemo di votare dalle Alpi alla Sicilia è uno che non voterà nessuna guerra e che non voterà come è accaduto non venti anni fa o dieci anni fa ma questa estate di condannare centinaia di migliaia di persone nei lager del deserto. Posso dire che qualunque sia la sua storia, però la storia conta perché ogni tanto, non mi che conta solo per noi, ancora adesso mi dicono quando si arrabbiano sta gente, mi dicono ma tu hai fatto cadere il governo pro di attività, però solo per noi contro la memoria, ma facciamo così, la grande ammiglia generale, ma posso dire che questa sinistra dovrebbe essere una cosa per cui, scusate in Toscana si è previnto la sinistra no? O no? Fino a mo' se la possiamo chiamare sinistra, insomma mi dicono che questo Enrico Rossi sarebbe un sostenitore del socialismo, ma l'acqua in Toscana chi la gestisce? È pubblica, è un'azienda di diritto pubblico, vi dico? No! E allora possiamo dire che noi ci uniremo per un programma per la ripubblicizzazione dell'acqua, per lo stop alle gare nel trasporto pubblico che vogliono privatizzare e poi ci saranno i trasporti solo per le tratte che rendono, possiamo dire nel nostro immagino, ma vi rendete conto santo cielo? Io mi ricordo quando facevamo le università verdi per tornare all'ecologia che dicevamo che bisognava investire nei treni, ti ricordi Paolo? Perché la gestione deve muovere in una maniera meno impattante possibile, dopodiché si è fatta all'alta velocità, però metà dei pendolari italiani non si può muovere, sono in condizioni di prigionia in questo paese, con serie difficoltà a muoversi. Possiamo dirlo che quindi noi saremo quelli che cercano di reinventare il modello con cui ci si muove, ma siccome ci dicono buonisti, a me è una cosa che mi fa incazzare, perché quando proponiamo, io per esempio direi, perché io trovo scandaloso che noi consentiamo, io direi che dovremmo cominciare in tutte le trasmissioni che Salvini è buonista, perché è stato al governo con forbigoni, galan, pendagli e la forca da tutte le parti, cavolo, non gli ha mai tirato uno scappellotto. Alla nostra sinistra c'è un immaginario in cui voglio essere cattivista, come dicono loro, e quindi sono, proporrei, per la confisca dei beni a tutti i condannati per corruzione. E siamo d'accordo con Salvini, li destineremo solo agli italiani, così sono contenti, vediamo se la votano. Allora, voglio dire, noi dovremmo dare l'immaginario, penso, che c'è un'alternativa di società. Questo riguarda la scuola, io leggevo i dati, metà dei bambini italiani nelle scuole, non hanno le menze. In Sicilia l'80%. E allora, noi non possiamo apparire come un club di gente che fa discussioni molto raffinate, ma poi quando al governo ci va, o comunque va in Parlamento, si occupa di altro, perché scopre la realpolitik. Noi dovremmo fare di ognuna di queste questioni, io ve ne dico una. Solo io vengo da una regione di un milione e poco più di abitanti, c'è stato fatto il censimento delle scuole, circa 500 scuole elementari e medie che si trovano in zona ad alto rischio sismico, sono ad alta vulnerabilità sismica. E i sindaci non sanno che fare, cioè le dovrebbero chiudere. Possiamo dire che se fossero una banca sarebbero state già ristrutturate e invece in Italia non sono stati trovati i fondi e quei bambini, e moltiplicatelo per tutti, in Italia parliamo di un rischio sismico con un indice di là dove è stata individuata la vulnerabilità. Allora possiamo parlare alla gente delle sue vere emergenze, che sono emergenze di salute, di sicurezza, di prospettiva sul lavoro. E possiamo farlo se noi non abbiamo il coraggio di darci un programma e selezionare, io penso, un personale che lo vada a rappresentare, che sia fatto da quelli che su questi temi le lotte le hanno fatte. Siano persone che hanno competenze specifiche e hanno dedicato una vita a battersi su quelle cose, a elaborare, a studiare. Siano invece cittadini e cittadine attivisti che su quello hanno lottato, che siano le comunità dalla Val di Susa a quelli che hanno lottato contro le discariche dei veleni, che siano le persone che siano state impegnate sul piano sindacale, le persone che si sono date da fare, quelle che hanno contribuito a costruire la battaglia per la legalità in questo Paese. Perché è un aspetto anche questo su cui la sinistra molto ha lasciato desiderare anche in questo campo. Allora io credo che riusciremmo a disegnare per questo Paese e anche per l'Europa una prospettiva diversa, una prospettiva per cui si dica, guardate, io trovo scandaloso che all'ultimo vertice dei G7 Gentiloni, io personalmente, io lo dico, io non sono estremista, lo dico, vengo da una tradizione molto moderata, ma io francamente un Presidente del Consiglio che va al vertice con Trump e si mette d'accordo per raddoppiare la spesa militare italiana, ovviamente ci dicono che i vincoli di Maastricht non valgono, nel momento in cui abbiamo tagliato la sanità, i trasferimenti ai comuni, abbiamo tagliato tutto, raddoppiare la spesa militare, io gli avrei tolto la fiducia, è un suggerimento che mando, non si sa mai, prima o poi. Ora, possiamo dire che noi invece riprenderemo le parole di Sandro Pertini, che il compito nostro è svuotare gli arsenali e riempire i ganai e che l'Europa, casomai, quei soldi davvero li usasse per un piano marcio per gli europei, ma anche nel continente africano. Leggevo oggi che per debellare la malaria, in Africa, non qui, basterebbero due ore di spese militari che fanno i paesi occidentali. Allora, se la sinistra incarna queste cose, io credo che un sacco di gente sia d'accordo con noi, tanta, e quella che non lo è perché le nostre idee gli sembreranno all'inizio strane, poi però sentendole, vedendole messa in pratica, guardate, la sinistra è un po' come le pedonalizzazioni. Quando tu dici la sinistra, però io parlo di quella vera, no, no, qui a Firenze avete un caso a parte perché l'hai detto tutto, avete partorito. No, io sono stato a Palermo e c'è stata una guerra, c'era un assessore di fondazione comunista che aveva finalmente pedonalizzato uno dei centri storici più grandi e più belli in Italia, non gigantesco. E c'era stata una rivolta, sembrava che lo dovessero ammazzare, come è accaduto in quasi tutte le città italiane, no? Si è detto ma no, si chiudono i negozi, poi come fanno, eccetera. Adesso c'è la gara a chi vuole, ma perché non chiudete anche da noi, eccetera. I primi a dire che sono a favore della pedonalizzazione sono i bottegai che erano contrari, o no? E fare la sinistra, io credo che significa, e questa è la differenza con il Movimento 5 Stelle, vedete bene, noi non è che dobbiamo fare la politica guardando i sondaggi e guardando cosa chiede la gente, di solito l'opinione della gente è prodotta dalla televisione, dalla staffa e da tanti canali di comunicazione in maniera industriale, noi non dobbiamo fare questo, noi dobbiamo avere delle idee e proporle. E magari all'inizio saranno un po' strane, io mi ricordo quando ci deridevano in Parlamento quelli come Renzi sulle unioni civili, adesso per battarsi di una cosa di sinistra che hanno fatto era quella che dieci anni fa per noi era un'assurdità, tanto è vero che Renzi andava al Family Day. Allora essere di sinistra e fare la sinistra io credo che significhi andare fortemente in controtendenza rispetto alle idee dominanti, anche se all'apparenza non paga. Oggi l'Italia paga questo clima da pogrom, da Ku Klux Klan contro gli immigrati, è una gara. E' ovvio che è impopolare difendere un immigrato, a me è capitato tempo fa una scena, io ho visto dal balcone uno che poi poteva anche non essere un immigrato e anche se l'avevo capito insomma aveva che con una bottiglia rotta in mano stava aggredendo tra l'altro un'altra migrante. Io ho chiamato il 113 che è arrivato, questo è stato arrestato, poi ho dato il mio documento perché ho detto va a denunciare come faccio normalmente. Il poliziotto nella mia città sono più famoso che in Italia, anche se non mi invitano le trasmissioni nazionali, il tipo che prendeva i documenti, il poliziotto, mentre scriveva, Maurizio Cerbo, ha alzato la faccia, lei è quello di rifondazione comunista? E ha fatto certo e mi ha detto ma voi non difendete gli immigrati. Nell'immaginario di quel servitore dello Stato l'idea è che noi non è che difendiamo il diritto del migrante a venire in questo paese a ricostruirsi una vita, nel suo immaginario noi difendiamo uno che va in giro una bottiglia e io ovviamente gli ho chiesto scusi ma lei difende gli italiani, ma se un italiano lei lo vede che sta sfregiando una italiana che fa lei non lo arresta perché è italiano e lei difende gli italiani? No, certo l'arresto, appunto ha detto pari e patta, siamo d'accordo. Perché dico questo? È evidente che noi difendendo gli immigrati abbiamo serissimi problemi di consenso, però è una sfida che dobbiamo raccogliere perché senza la quale non saremmo una sinistra. Non lo siamo stati, o meglio non noi, però chi c'era? Quando furono votati i centri di detenzione temporanea per gente che non ha fatto nessun reato, Liviaturco mi disse lo abbiamo fatto perché la gente aveva paura, la dovevamo rassicurare, santo cielo, ma un poveraccio mi ha chiuso dietro le sbarre per rassicurare la gente. Non l'abbiamo fatto perché non abbiamo abolito la Bossifini neanche quando ero al governo, anche se Paolo che era ministro ci ha provato, adesso dobbiamo farlo, ma per farlo noi dobbiamo proporre alle persone la possibilità di immaginare che insieme a loro lottiamo per cambiare le cose che le fanno stare male. Cambiamo l'agenda della discussione e su questo concludo. L'Inghilterra è il paese della Brexit in cui è stata fatta una campagna formidabile che ha convinto milioni di persone che il problema erano gli stranieri e soprattutto nei centri popolari un sacco di gente è andata dietro a quel faraggio e alla sua demagogia. In pochi mesi la campagna di Jeremy Corbyn, mi dispiace, ma è vero che non c'è nessun Jeremy Corbyn, noi abbiamo saputo perché Bersari in televisione ha detto io non sono come Jeremy Corbyn, io ho fatto le privatizzazioni. Io scusate, non ho nessuna obiezione, ma non possa fare il mio portavoce per questo, venga per altro, venga per il passato. Jeremy Corbyn è arrivato e ha cominciato a parlare del Servizio Sanitario Nazionale, della tassazione che favorisce i super ricchi e penalizza i ceti popolari, ha cominciato a parlare del diritto all'istruzione, ha cominciato a parlare, in Inghilterra pensate in Italia che siamo l'ultimo paese per numero di laureati, ha cominciato a parlare del fatto che c'è un diritto ad andare all'università che ha troppi e negato perché non hanno i soldi, ha cambiato la discussione e milioni di persone che avevano votato per la Brexit hanno votato di nuovo per il simbolo dell'Abur e per una politica per i molti e non per i pochi. Io penso che questo dovremmo fare in Italia, provarlo a fare, non ce l'abbiamo, i leader li costruiremo, per me ce ne sono anche a bizzeffe, l'importante è che coloro che parlino per tutti parlino la lingua di tutti e che cominciamo ad andare a parlare al paese delle nostre proposte e delle cose perché se quando proponi qualcosa devi anche proporre cosa non va, cosa va abolito. Per fare la politica della città che dice Paolo devi cambiare la legge sui regimi di suoli e quindi o stai con Caltagirone e la lobby dell'edilizia o stai per una politica del verde e della casa per tutti. Non è che puoi fare tutte e due le cose, c'è sempre un no e un sì. Non stanno mai, non è che poi stai con Marchion e stai con la FIOM contemporaneamente. Quelli che lo dicono come Feltroni poi alla fine stanno sempre la parte di Marchion. Mettiamoci d'accordo, questo è accaduto in questi anni. E allora, dico, questa cosa qui io credo che possa non immediatamente fare super risultati ma rimotivare persone, intelligenze, cuori a un impegno vero per cui tu perdi un po' del tuo tempo per ritrovare altri con cui fare qualcosa che abbia un senso, una politica che abbia un senso. E quindi noi abbiamo bisogno di una sinistra che non parli più di che cosa accade dentro, fuori PD, ci alleiamo, non ci alleiamo, se esce quello ed entra quell'altro, eccetera. e che utilizzi ogni minuto che ha in televisione o sui giornali ogni frammento per parlare della vita delle persone e per dire che cosa vuole fare. Ed è per questo che io credo che tutti insieme questa cosa potremmo costruirla. Io accetto la sfida di Tommaso, noi l'abbiamo già accettata. Noi siamo venuti, abbiamo firmato, avete fatto un appello e l'abbiamo firmato. Noi non abbiamo organizzato una piazza Santi Apostoli della sinistra antagonista. Magari ci veniva anche più gente perché lì non è che ci fossero grandi masse. Non era difficilissimo competere. Non l'abbiamo fatto perché quando voi ci avete proposto su quei principi ognuno venga e poi si decide tutti insieme, eccetera. Noi siamo venuti, altri non sono venuti. Hanno fatto il loro processo, che è l'unico processo di cui si parla in questo momento a sinistra. Io lo dico con assoluta bonomia all'amico Nicola. Io non vorrei che alla fine di questa storia quella che sia l'unica sinistra in campo. E quindi dico che il processo del braccaccio dovrebbe ripartire. E chi ci vuole stare dentro è benvenuto, ma facciamolo. Noi siamo pronti, noi lavoreremo alla riuscita di tutte le assemblee. e siamo disposti a discutere di tutti su un programma che abbia quei contenuti e quel profilo che diceva Tommaso. Altra cosa invece è che noi stiamo fermi, mentre altri dominano la scena della sinistra italiana. E badate, lo dico, non per interessi di partito. Noi non ne abbiamo. Siamo extraparlamentari da tantissimo tempo, oramai, e siamo anche abituati a organizzarci lo stesso. Io lo dico perché una sinistra decaffeinata, che dice no ma se Rezzi non c'è, ma se Franceschini sì forse potremmo parlare, eccetera. Io credo che non riesca a convincere milioni di persone di sinistra e non a ritornare a fare politica, a votare, a partecipare, a lottare. E quindi per questo abbiamo il dovere di costruire una sinistra, a partire dalle mobilitazioni che ci sono, che invece abbia questa capacità. E l'unica possibilità che c'è è che sia una sinistra con facce nuove, facce credibili, un profilo chiaro di lottura con le classi dirigenti responsabili della degenerazione in questo Paese e della crisi di questi anni, e che abbia un programma da proporre agli italiani. Prima la facciamo, io credo modestamente che siamo in grandissimo ritardo e meglio è. Però anche dovessimo rimanere in pochi, io credo che non dovremmo rinunciare a provare a farla. L'Italia sarebbe l'unico Paese europeo dove una sinistra radicale non si presenta all'appuntamento elettorale. Io prendo un solo impegno a nome del popolo di rifondazione comunista, uno che noi essendo un partito democratico, qualsiasi cosa faremo, la faremo votando circolo per circolo tutte le scritte e tutti gli iscritti. Perché quello che decideremo di fare non sarà mai più qualcosa che decide solo un ristretto gruppo dirigenti. Primo. E siamo disposti a fare qualsiasi cosa insieme a coloro che vogliono costruire la sinistra partendo da questo principio. Una testa, un voto. E la seconda cosa che vi posso dire abbastanza di cuore è che se ci saranno soluzioni che non ci convinceranno, noi non siamo qui a mendicare un posto alla mezza di nessuno. e che, questo deve essere chiaro, non ci saranno o ci sarà una sinistra radicale nel senso che diceva Tommaso Montanari o noi proveremo a farla comunque e quindi ci sarà. E se ci sarete non saremo pochi. Grazie. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. Grazie.